oh bravo sound alert che agisce col favore delle tenebre e scamma gabriella top che bello che bello andiamo va buonasera buonasera a tutti a tutte e a tutto salve 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 ciao andrei fariseo buonasera scarselletta ciao buonasera daniel buonasera moderatori moderatrici salve buonasera valentina grazie per i 100 beats con sound alert velus buonasera salve yunkel buonasera testa di ricci buonasera 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 come andiamo come stiamo che mi raccontate di bello ciao ace buonasera non passerà mai questo muco ma non l'ho comprato il fluimucil non ho avuto il tempo dovevo farlo però oggi stamattina ho preso il tachifludec mi sentivo di nuovo con la gola un attimo un po così mezza raffreddata devo dire devo dire me lo ricordavo peggio come sapore può darsi pure che ci ho messo mezzo cucchiaino di zu di no di zucchero di miele e forse per questo al limone l'ho preso il tachiflu bella sta tinta labbra anna allora capiamo bene non è una tinta labbra è la combo di questo grazie doten 38 mesi insieme medaglie bravo doten top anniversario minore 3 bravissima doten grazie mille 38 mesi top moderatrice ma soprattutto top diciamo informatrice ciao smilta buonasera no valentina ho messo la matita comunque ho messo la matita sotto il rossetto quindi boh non lo so non mi trovo con la matita in realtà devo essere sincera allora top redazione doten esatto mesi versari ma sì mesi versari anniversario ormai è andata doten grazie mille bella sorpresa ieri pomeriggio ammetto che ci ho sperato assai e entrassi ma sarei mi sarei divertito troppo eh junkel io non lo sapevo che stai partecipando pure tu però oh raga a proposito che si avvicina l'hype train fa partire l'hype train e guarda cosa succede gira la ruota della sfortuna se raggiungiamo le 15 sub ve l'avevo promesso è che mettevo prima o poi la ruota della sfortuna almeno per il periodo natalizio l'hype train che chissà se parte che cosa succede io uso fluistar che è un integratore naturale per il muco fluistar e no devo prendere il fluimucil in realtà raga mi serve qualcosa di prepotente in realtà non esiste punto esclamativo ruota doten dovrei metterlo non c'è c'è gira la ruota della sfortuna se sa no quindi ci sa si gira la ruota della sfortuna che opportunamente qua sotto non l'ho ritirata fuori perché non volevo lasciarmi condizionare dalle cose che stavano scritte dall'anno scorso perché magari mi sarei messa a togliere qualcosa così non lo so quindi ho detto non la caccio proprio metto la ruota della sfortuna almeno la prima giornata facciamo così oddio sì valentina sì fate partire il treno è letterina punto esclamativo letterina perché il 24 ieri mi sono messo a fare anche la più o meno la programmazione della mini maratona che farò il 24 visto che io oggi a quest'ora dovevo stare sul treno per scendere giù in campania e no non ci vado quindi passerò le vacanze di natale qui sarò in live per chi vuole passare magari a fare un saluto a farci gli auguri eccetera eccetera ciao bunga buonasera buonasera è proprio nuca in esattamente qua il treno sta per andare via quindi lasciamo sta ciao bunga bunga buonasera e mi sono messa a fare un pochino la programmazione del della maratona del 24 mini maratona perché la maratona effettiva il 28 penso è intorno a 27 28 ma adesso capiamo un attimo in questi giorni comunque ho 27 28 29 cioè questo è tra l'altro ho aggiunto la nuova sub goal totale ovvero se raggiungeremo i 500 punti per fine mese ci sarà a gennaio una ulteriore live modificata legalmente il ritorno e l'intenzione sarebbe quello di stare tutti quanti in stanza con delle piccole modifiche legali signori di twitch è legali e reacteremo al servizio l'altra volta la prima volta che lo facemmo guardammo il servizio di pupo che stava insieme alle iene in california e tutto quanto questa volta invece un grandissimo classico che come si chiama come si chiama ragazzi ma come si chiama o come valentina vieni mi incontro come si chiama il tizio il mago la cosa con la c con la c valentina giu cascasella esatto giu cascasella che se fa pure lui di sostanzine modificate non non legalmente quindi faremo una reaction mentre noi staremo a fare la live ciao pordio buonasera saremo ovviamente a modificarci legalmente e faremo una reaction tutti quanti in stanza a quel servizio lì sì quello di casella quello di casella esatto a gennaio se riusciamo a raggiungere ovviamente la sub goal entro fine dicembre ecco questo più o meno il programmino il progettino è valentina è un regno problematico con tante spese valentina siete dei farisei avete fatto morire il treno avete fatto morire il treno ci stanno 50 secondi madonna mia leak a mucca blu grazie mille ma allora dobbiamo partire allora dobbiamo andare però ragazzi lo dovete spingere sto treno per carità di dio via via si concludiamo il livello 1 del trenino spingi il trenino non fare il caino dai frago le panna dai arriviamo a 4 e 50 mancano dei sabine si sto pariando no no non è questa la live modificata legalmente vai piccioni in chat forza 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 ciao mucca salve stavo su prime gaming ho sentito mucca blu salve mucca non oso immaginare sto treno durante la live modificata sì tutti insieme che bello forza spingete il trenino arriviamo a 4 e 50 ragazzi questo è l'obiettivo maronna mi che pezzone natalizio anna mi fai sempre morire con queste grafiche speciali solo per voi ragazzi passiamo nell'iperspazio no 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 ragazzi no mucca blu ne voglio bene per cortesia vai con i piccioni in chat forza 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 chiamatevele queste due sabine chiamatevele chiamatevele fate due sabine arriviamo a 4 e 50 robert e calla dai robert grazie smilza grazie mille per l'abbonamento regalato grazie a fragole panna robert che hai fatto che non appare niente qua cioè di sauro costa grazie mucca blu grazie mille perché non segna 4 e 50 sto pariseo che voi siate benedetti vedete che grafiche ragazzi solo per voi siamo una community di dislessici ma sì ma sì o raga vi ringrazio vi ringrazio buon natale robert dagli che si è accodato dagli robert grazie robert grazie mille robert molto gentile grazie mille perché non segna 4 e 50 era l'obiettivo dagli una sabina forza se conclude pure il livello 2 ma perché non segno 4 e 50 sto pariseo twitch robert ti ringrazio per il prime abbonamento gratuito sostiene il canale sostiene la community sostiene il progetto e che progetto ve voglio far vedere già faccio ragazzo cringia no gabriella bloccate gabriella mannaggia miseria no ragazzi però quando vedete le piramidi di gabriella le dovete bloccare vi prego grazie robert grazie mille robert grazie mille mucca blu grazie smilza grazie fragole panna grazie lì grazie valentina grazie mille ma bella un'altra sabina valentina a conclusi livello 2 taglie valentino taglie valentino no 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 che succede grazie mucca blu no 98 per cento no 98 per cento no 98 per cento no 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 ragazzi 98 per cento no voglio fatelo per bambin gesù una sabina una sabina ragazzi cosa vi costa una sabina sostenete quando sta mia a 4 e 49 ragazzi 98 per cento livello 2 lo vogliamo concludere oppure no lo vogliamo concludere oppure no daniel è cala post che potenza questo treno che potenza natalizia grandissimi grandissimi vi amo vi voglio bene grazie 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 mille grazie mille è tornata a sciomarie grazie andiam ma smilza grazie 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 mille grazie sembra la circunvesuviana anna grazie mille grazie davvero grazie 4 e 50 di nuovo l'abbiamo fatto pure la ip train conclusi livello 2 a natale si può donare di più esatto anche perché comunque valentina ricordiamo che esistono le scontistiche punto esclamativo sconti in chat ma tra l'altro sta tutto a schermo dal 13 al 2 gennaio 25 per cento di sconti sugli abbonamenti periodici dal 27 non per questo faccia maratona dal 27 in poi al 2 gennaio 25 per cento di sconto su tutti gli abbonamenti regalati 13 per cento al 20 dal 13 per cento robert grazie è meso meso emozionata robert dal 13 dicembre al 20 dicembre però questa cosa ormai è andata a fan q ovvero nuovo bonus beat ma non ci interessa un cazzo perché oggi siamo al 21 quindi è una cosa che riguardava fino a ieri però il nuovo hype train a tema come potete vedere e anche il mio hype train a tema solo per voi che bello oggi mi sono connessi in tempo ansia dai 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 grazie mille robert grazie mille daniel grazie mille mucca blu grazie mille valentina grazie di nuovo mille robert mucca blu di nuovo smilza grazie fragole panna grazie leak grazie valentina grazie doten grazie grazie mille per il supporto grazie mille del sostegno grazie davvero robert domani sera a capodanno chissà che cosa si farà che fate a capodanno state nel mood state nel mood io no a posto perfetto grazie valentina grazie mille per aver aggiunto il cringe a questo trash grazie mille vale grazie 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 domani sera spacchiamo largo venio e calla perfetto io domani sera ragazzi devo andare a registrare ma non mi immagino sconvolto comunque ma è che mi prepara a fare se poi mi fate fare la pagliaccia perché io sono una pagliaccia ragazzi ma che cosa volete il bello è anche questo vabbè valentina va bene non so che cosa fare quando fai il quack tu giuro non so c'è un sun ma lascia un attimo a cussi però ti ringrazio per il quack grazie mille valentina o perfetto che cosa stavo dicendo reintegrata la ruota della sfortuna quindi a 15 sub ogni 15 sub si gira la ruota della sfortuna chissà che cosa uscirà se dovessimo mai raggiungerla live train avete avuto un assaggio di quello che accade ovvero un po di cringe misto a tanto trash e niente vi stavo dicendo anche perché per il 24 strutturato la mini maratona adesso vi spiego un attimino che cosa faremo il 24 ragazzi perfetto allora il 24 attaccherò la live più o meno il pomeriggio in modo che entrate sul gruppo telegramo punto esclamativo telegramo brava doten il 24 e cosa faremo in ordine sparso è proprio così perché poi farò una maratona il 28 29 adesso non lo so vi farò sapere oltre comunque la sub goal che se si sbloccherà entro fine mese a 500 sub a gennaio faremo la live modificata legalmente dove saremo noi in questa stanza che ci modifichiamo legalmente mentre reacteremo al servizio delle iene con giugas casella mentre sta dove in olanda raga in olanda lo portano se non mi sbaglio è in olanda sta tutto fatto gli sbagliano il tatuaggio dietro lui si fa acchiappare il panico ragazzi veramente lui che corre dietro la gallina scene di pura follia ve lo assicuro ragazzi è una cosa stra bella invece per i 24 la mini maratona ho organizzato questo leggeremo le vostre letterine di natale quindi punto esclamativo letterina in chat mi sono arrivate delle letterine però mi raccomando contribuite altrimenti io questo format lo posso portare forse sia no per 15 minuti 20 minuti mi piacerebbe farlo durare un po di più quindi mi raccomando scrivete la vostra letterina di natale esatto coming esattamente dai che ha scritto anche reida hanshant ha scritto un bel un bel messaggio devo dire un bel resoconto del suo anno qualcuna l'ho letta eh vi dico la verità me ne so anticipate marione metadone comunque 80 anni ancora attaccati lì per grattare gli ultimi spicci dalla tv nulla contro giu casca se ma è un servizio vecchissimo però mamma mia che è mai vecchissimo marione metadone marione non ci smorzare il mood per cortesia eh oggi non è giornata pesantesse o condividi o ciuff ciuff o che bello grazie mille per aver contribuito grazie mille per aver sostenuto che pesantesse qual no cioè mamma mia marione e non oggi te prego che oggi siamo un po più così un po più frixantini un po più paxerelli dai marione adeguati al mood di sauron costa chi è opinionista clandestino grazie opinionista grazie mille 100 euro regalato alla community porcaccia la miseria ma facciamo un applauso a opinionista ti ringrazio opinionista grazie mille grazie mille che mi hai salvata visto che i signori di twitch ancora mi devono pagare e probabilmente lo faranno o l'ultimo giorno del mese o al prossimo ciclo di pagamento ovvero il prossimo 15 gennaio grazie mille opinionista buone feste ma buone feste anche a te opinionista grazie mille grazie 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 mille grazie davvero pauletta buonasera salve applausi e se li merita opinionista se li merita robert grazie opinionista veramente grazie grazie davvero grazie per il contributo infinito grazie mille opinionista ci salva dalla bancarotta voi non avete capito che cosa sto facendo negli ultimi giorni per poter riuscire a campare buongior sotto natale poi dai che arrossisco vabbè opinionista dai arrossisci pure che fa non fa niente opinionista grazie mille grazie davvero tra l'altro voglio ringraziare anche capriolo oggi mi è arrivato un piccolo cadeau un regalo da parte di capriolo che io ancora non ho aperto probabilmente lo aprirò il giorno del 24 lo tengo là vorrei vederlo onestamente il regalo però so pure il tipo che mi piace la sorpresa hai capito quindi dalla wishlist punto esclamativo wishlist c'è anche una wishlist se volete fare un pensierino non lo so qualche cosa visto che ci sono delle persone che me l'hanno chiesto su instagram e capriolo per esempio oggi mi è arrivato il suo regalo non lo so che cos'è non lo so non so che cos'è però so curiosa so curiosa cerco di intuire è in base a quello hai capito dalla forma struttura del regalo però non lo so in realtà non lo so ragazzi e quindi infatti tengo il anche la letterina qua anche la letterina anna vali molto di più di quattro spicci di ti ringrazio fragola pure voi valete molto di più pure voi eccolo qua cioè questa è l'unica cosa che ho buon natale annarella da capriolo volante però io non ho visto che cos'è se fate tre subs la ruota della sfortuna le altre le regalo io o ragazzi cioè opinionista rilancia eh se voi fate tre subs per la ruota della sfortuna le altre cinque le regala opinionista che già ha dato una grandissima mano grazie opinionista daniel che subito fissa il messaggio grazie opinionista sulla parola eh quindi mancate voi mancate voi con queste tre sub grazie mille opinionista come stai tutto bene ravvedetevi tu andrei si oprim che te ravvedevi guarda tu il primo proprio speriamo che questo che babbo natale ti porti un po di non lo so un po di equilibrio mentale eh no mucca guarda le cose vanno dette andrei sei il primo che si deverà vedere sei in partenza per toglio che bello ma mo oggi il giorno di natale ah proprio il giorno di natale parti per toglio belle chi sta meglio te opinionista scusami pure io vorrei andare a toglio a natale eh non c'è l'incredibile peggol non ancora mucca blu non ancora vabbè comunque stavo dicendo ragazzi non vi dimenticate del messaggio di opinionista che poi va via eh opinionista mio padre andrei caccia una sabina porca miseria santa caccia la sabina guarda guarda quanto è noi proprio tra tutti andrei qua oi qua la tengo voglio vedere proprio andrei prima o poi voglio vedere voglio vedere che venne l'altro giorno è perché io la sab il prime l'ho fatto alla street che era la streamer mia la mia ragazza adele madera ecca la la stavamo aspettando adele grazie adele grazie mucca blu no ragazzi c'è stato un accavallamento di roba grazie adele 13 mesi insieme abbiamo superato l'anno veramente grazie mille grazie davvero mucca blu grazie mille per l'abbonamento regalato a psycho chero grazie mille per l'abbonamento regalato a chero a carola e coming tre abbonamenti grazie coming grazie mille grazie 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 davvero robert e vai grazie grazie mille adele mucca coming per le tre sub grazie mille peggol l'altro giorno in live con futur motta ragazzi ma che cazzo sta facendo peggol è una volta palle uomo ma futur motta l'abbiamo visto pure nella chat di social boom ma che sta a fare ma che te non capo io non mi fido più di peggol lo sapete io non mi fido di peggol non mi fido di peggol un terno all'otto veramente grazie mille per il sostegno grazie davvero non mi fido di peggol raga futur motta ma mo lo chiamiamo grazie opinionista e calla l'abbiamo raggiunto l'abbiamo raggiunto l'abbiamo raggiunta la ruota ma ragazzi da quanto tempo non facciamo la ruota che bello grazie grazie c'è pure un refuso qua che mi dà fastidio grazie mille grazie grazie mille dobbiamo girarla subito grazie opinionista veramente grazie mille grazie a chi ha supportato veramente grazie 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 mille addosta dove sta dove sta dove sta gruppo sub goal eccolo qua a no non è questo addosta mannaggia daily sub o perfetto grazie mille grazie è diventata una star peggol gira anna che poteva andare a far mangiare ok perfetto giriamo va raga io mo ve lo dico cioè è più di un anno un anno e mezzo quando è ma molto di più che non giro la ruota io non mi ricordo manco che cosa c'è scritto sopra non l'ho cacciata apposta perché non volevo cambiare le cose ciao doppia o doppia ho visto che mi è scritto su instagram ti devo rispondere la ruota della sfortuna eccola qua maronna mi ragazzi ma che cazzo no non mi ricordo più che cosa ci sta scritto un po paura non sto più nel mood di anni fa però allora racconta una verità scomoda metti la maschera da cavallo per cinque minuti maronna mi ragazzi ma perché c'è un tuffo nel passato guarda un video cringe schifoso tipo insetti mi fanno proprio schifo oppure la smr sessualizzato un pochino non mi cringia cioè anche se non ho niente contro e devo dire la verità questo se ne sta uscendo scrivi qualcosa nella chat di un canale in live e questa era una cosa che vi piaceva molto quanti figure in merda ma anche quanti amicizie nate così time out ad un account per 600 secondi fa indovinare la canzone con la bocca chiusa e voi la dovete indovinare in chat che ero grazie che ringrazi mucca blu gira la ruota quindi devo rigirare la ruota fa un tatuaggio un trasferello e mo abbiamo iniziato la live quindi per tutta la live me lo devo tenere parla in asmr per due minuti cringe mima o disegna un film la chat deve indovinare fai un indovinello nella chat di un canale online regala una sub casuale al tuo canale storia ig imbarazzante no ragazzi questo è brutto vedete io per questo non l'ho cacciata prima perché tipo questa io l'avrei cambiata storia instagram imbarazzante cioè scegli tu che devo scegliere io qual è il pegno racconta una verità scomoda giriamo no ragazzi no vabbè parla in asmr per due minuti maronna mia però io mi scurro ragazzi c'ho vergogna no si può rigirare non lo so se è meglio tenere questo o qualcos'altro poteva andare peggio esatto lo tengo questo eh no ragazzi non si può scammare la ruota non si può se iniziamo già a fare così vabbò almeno ti rilassi un attimo anna mannaggia miseria vabbè raga allora devo mettere pure il timer va benissimo giustamente dice ace perché comunque cringiamo allegramente vado in bagno perfetto può stimolarti la diuresi questo momento no pgn non scammo non scammo fammi mettere un attimo il timer non ho manco detto oggi che cosa facciamo punto esclamativo ngl se volete fare delle domande in anonimo oggi rispondo a tutte le domande che farete oppure in chat e ovviamente splatter buonasera diamo a bel mi stanno arrivando agli ngl timer di due minuti e zero secondi non lo tengo spiral non lo tengo allora avvio allora ragazzi mi sentite mi sentite preferivo la verità scomoda confesso dice frago le panna ma scusatemi io non faccio questo rumore con la bucca perché voglio fare la smr ma perché tengo un po di catarro stavo dicendo la verità scomoda ragazzi oggi infatti mi potete fare tutte le domande del caso in chat c'è qualsiasi cosa che volete chiedermi così io vi risponderò sinceramente su ngl invece mi potete fare le domande in anonimo se per puro caso avete vergogna di chiedermi qualcosa così infatti già degli ngl che mi sono arrivati sono probabilmente da parte di alcune persone che non hanno le palle di esprimersi e metterci il nickname la faccia infatti mi arrivano sempre messaggi strani su ngl persone che si dichiarano che che confessano cose io non ho capito per quale motivo c'è tutta sta sta paura di interagire come non ecco proprio nessun microfono messo malex parla in asmr c'è scritto ok già mi sto cringendo assai mi sto cringendo già assai a fa sta cosa dopo il trenino mancavo solo che questa life se qualcuno si sta connettendo in questo momento non riesce a capire un cazzo ma che stai pazzo capi che stai pazzo trenina stile natale poi la smr la follia la follia più totale allora stavo dicendo per chi si connette tranquilli le live non sono sempre così capri e la curva in cortesia vieni mi incontro ti prego allora e la ruota è un espediente che utilizzavo per dar o perfetto dai e interrompi o il primo venne andato o no cinque sab non facciamo tutta la live così è impossibile coming te prego per cortesia mi cringio un botto cioè già mi so cringiata con il trenino poi mi so cringiata l'alert di valentina ma parla per due minuti in asmr vi prego cioè ciao quit buonasera salve vedete primo messaggio in chat mostra persona no quittev che cosa dovrebbe pensare ma chi me l'hanno regalata sta sab onest cioè no 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 due ore no andrei non è sotto prenotazione te prego per cortesia è durato troppo poco no ragazzi due minuti sono abbastanza vi prego due minuti sono passati ciao messo palex buonasera comunque prima volevo chiedere e scrivere rispondere a qualcuno in chat avevo alzato il volume ho preso un colpo a fangul erica a fangul voi vi divertite mi devo ricordare che quando esce la smr vi devo far cagare sotto quando smette cioè passano i due minuti mi stavo rilassando no ragazzi no poi tengo pur un po che catar devo essere sincera era molto difficile parlare in asmr così comunque che cos'è voglio ripristinare un pochino il mood delle mie vecchie live almeno per quanto riguarda il periodo natalizio che mi voglio un attimino un po divertire perché negli ultimi mesi siamo stati come community come canale un po pesantesco cioè sempre attivismo sensibilizzazione divulgazione temi sociali attualità e l'introspezione quello quell'altro però prima lo zoccolo duro del mio canale era appunto questi piccoli trigger queste piccole cose che creavano anche dei momenti estremamente ludici momenti divertenti frixantini paxerelli e un pochino rivedendo un vecchio a free boot free free booting vabbè best off in realtà che mi aveva fatto pgn mi mancava un po quel mood pazzo folle un po così pure perché ragazzi mi sono proprio appesantita da un certo punto di vista e voi invece vi divertivate seppure io mi divertivo quindi no vaffanculo porca miseria sì ok le tematiche sociali sì ok la pesantesca e tutto quanto però c'è bisogno un attimino anche per me stessa anche per me stessa di smorzare un po i toni spezzano un po il mood serio esatto daniel e quindi almeno a fine dicembre fino a fine dicembre faremo così live follia coming guarda ti dico la verità può uscire di tutto e di più è da questa live c'è troppa abilità al sound nel gesticolare sono un fuoriclasse uno dei sono dei fuoriclassi assoluti chi è troppa abilità al sound che significa jobba eccolo là oi jobba che ieri già mi stava facendo litigare con bustine jobba buonasera salve facciamo un uno shout out a jobba cortesemente jobba tutto a posto tutto bene benvenuti riders benvenuti di che cosa stavate parlando che dite ride sì 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 salve jobba buonasera buonasera o comunque quando vogliamo organizzare con bustine io ci sono eh bustine bustine subito a mettere in mezzo we metter daryl buonasera salve buonasera 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 come stai daryl sera lady palindroma salve daryl grazie mille per l'abbonamento grazie 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 beh allora al sud con i gesti ah ok sì 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 io gesticolo molto e ma poi posso dire una cosa non solo al sud cioè ci sono un botto pure di romani che gesticolano eh mo non vorrei dire ma a me a me fa piacere cioè nel senso a me stanno simpatiche le persone che gesticolano proprio che io gesticolo e quindi ciao a xr buonasera ti trovo in splendida forma guarda sta lì lì per arrivarmi l'influenza la sento la percepisco percepisco comunque i batteri che si muovono in me però teniamo duro a xr tu come stai job eccolo alla sì sì tutto bene grazie oh perfetto jobba anche a roma ma anche a me piace perché mi stanno simpatici capi pops per esempio no guarda fa il gesto così del cuoricino ancora il psico di ieri che mi fa cdta in gola aia un po di pazienza dai daryl quindi mo a parte questo ragazzi parte il mood un po così no che smorsa un po i toni perché ne ho proprio bisogno fatevi dire un attimino il 24 che faccio questa mini maratona visto che comunque io non sto con nessuno non sto con la mia famiglia non sto sto da sola nelle vacanze di natale vigili natale e tutto quanto passerò il 24 a fare una piccola piccola maratona per tenere compagnia a quelle persone che magari vogliono prendersi una pausa dalla cena dal cenone dal pranzo insieme ai familiari o magari che come me non stanno sono fuori sedio non stanno con la propria famiglia con i propri affetti così e quindi vogliono tenersi compagnia detto perché no facciamo questa piccola maratona e i format che porterò durante la maratona a lo dico in modo sparso e facciamo un bel match tutto a posto comunque spero anche a te sì 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 gioba grazie mille per il ride veramente devo recuperare allora la live di ieri da gioco no ma guarda ho fatto soltanto il ride c'è bustine che dice anna manna è lei un'altra vi mettere ho detto bustine ma quando vuoi eh cioè te lo danno tutto libero top anche a me hanno levato le ferie niente napoli dice mucca blu no io in questo momento dovevo stare sul treno per scendere giù in campania così da calzo una concomitanza di cose e non sono scesa anche per mia volontà e anche perché comunque domani sera devo registrare un format una serie di video vicino roma devo andare alla sera è alle 21 e 30 però devo registrare il primo di una serie di video di gdr gioco di ruolo un gioco di ruolo che non lo so se lo conoscete si no non vi dico niente non ve lo dico come si chiama perché su su youtube se io se voi digitate il nome di questo gioco vi esce anche che tipo di gioco cioè non solo che tipo di gioco è ma quali potrebbero essere i possibili partecipanti sabato scendo roma terracina e poi napoli che bello io a gennaio voglio andare a napoli ace comunque pure io sarei partito oggi c'è di peggio ma si mucca guarda non fa niente no baldur's gate no 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 però un simil lupus da come mi è stata descritta la situazione il gioco quindi adesso vediamo e speriamo bene speriamo bene un po io mi cringio a fare il gioco di ruolo ragazzi però perché no mi si è data questa opportunità dovevo dire no ma sì buttiamoci vediamo come va pure perché comunque al mio fianco ci saranno dei noti doppiatori italiani io con il mio napoletano mi sento un po fuori luogo invece no poi mi hanno proprio voluta per la frizzantezza la capito il mio esser campana partenopea un po verace così e quindi speriamo bene ti aiuto io smilza te lo giuro e poi ti dico in privato come si chiama il gioco è tutto tiriamo i dadini e mi devono spiegare però bene il gioco perché altrimenti e quindi niente devo girare questa serie di video video domani c'è la il primo video da registrare e niente quindi anche per questo non sono scesa giù in campania ragazzi sono usciti fuori dei lavori proprio in questi giorni non mi permettevano di andare come vi posso dire o rinunciavo a questi lavori e stavo giù però rinunciavo eventualmente anche a fare le live come volevo io o mi passavo queste giornate completamente isolata perché la macchina sta a terra non mi posso muovere cioè dovevo stare tipo per 5 6 giorni chiusa in casa a san marzano sul sarno non è proprio il massimo mia mamma mio fratello li posso vedere quando quando voglio quando ci si organizza quindi non fa niente tanto a me da quando è venuto a mancare mio padre e i miei nonni non è più natale vi sono sincera quindi vi stavo dicendo punto esclamativo letterine ragazzi perché il 24 a questo punto ci teniamo compagnia questo è il primo format che farò durante la maratona eccolo qua ve lo faccio vedere letterine di natale benvenuti figli di sauron scrivete qui le letterine natalizie con i vostri resoconti dell'anno i vostri auspici aspettative per il prossimo futuro grazie mille per la condivisione se volete firmarvi nella letterina mi fa piacere se non vi va di firmarvi quindi volete scriverla in anonimo oppure mi fa piacere non è un problema però mi raccomando scrivetele che il 24 leggeremo le vostre letterine in chat in live dopodiché è uno dei format che porterò dopodiché voglio portare sbanzai o anna sbanna come che dir si voglia anna sbanna ovvero leggeremo le richieste di sban già ho letto qualche richiesta di sbanno un po così quindi anna sbanna ci sarà una piccola sezione we metterò ovviamente vorrei fare il format the storytelling una volta l'abbiamo portato a tema natalizio vi siete divertiti quando l'ho portato quindi poi vi spiegherò in che cosa consiste cioè io praticamente vi do degli elementi degli input tipo delle immagini dei suoni delle canzoni man mano volta per volta e voi in chat dovrete costruire una storia che daniele per esempio se non lo so mi sembra che ti ricordi no come era fatto e ti era piaciuto come format e quindi farò il storytelling natalizio vorrei recuperare insieme a voi anche quelli che sono i vari commenti che ho ricevuto su youtube soprattutto sulle live ricaricate sul secondo canale sì sì ecco mi ricordo mi ricordo quindi magari è una piccola sezione dove leggiamo i commenti che ricevo sotto i video ricaricati su youtube perché a volte io non ho il tempo di rispondere a quei commenti e alcuni commenti ragazzi fanno proprio volare vi dico questo veramente volare c'è un bel po è da leggere in realtà e anche commenti abbastanza interessanti che danno degli spunti su cui di squisire poi voglio fare il momento wish per chi se lo ricorda ovvero farvi vedere appunto gli oggetti le cose più assurde su wish piccola sezione così è per divertirsi niente di che già ho salvato qualcosa quindi il momento wish e in realtà se ci resta del tempo due cose o una reaction a primo appuntamento il boss delle cerimonie o cucine da incubo oppure un altro format che si chiama mannard cord da amarcord no maggiolato un pochi russetto sì da amarcord ovvero recuperare delle vecchie live o dei vecchi vecchi video che mi sono stati fatti contro tipo per esempio il vecchio video se esiste ancora di sabrina bambi chi se lo ricorda quello che mi paragona tipo agli escrementi anzi manco gli escrementi perché a meno gli escrementi concimano si era messa a parlare del mio disturbo alimentare chi se lo ricorda proprio agli albori di twitch del mio twitch odio odio la matita quanti ricordi oppure non lo so una reaction al primo alla prima live modificata legalmente dove c'è livio che sta tutto fatto bellissimo o ad esempio recuperare la live dove c'è la mia prima intervista ad un adult baby dai per lover quindi adesso vediamo un attimo caverchiara ciao vediamo un attimo scegliamo insieme giustamente e che li avevi è una storia lunghissima fra con le panna lunghissima ma è più matita ma è più matita sulle labbra ve lo giuro probabilmente ti ho conosciuto proprio come una con una reaction a sabrina bambi lo vedete lo vedete chissà se esiste ancora quel quel video eh fatemi vedere un attimo a proposito di manner cord così l'ho messo anche su instagram mentre ero in in intro vado a cucinare tesoro buona cucina e buon appetito oddio sono così disagiati che pensa gli adult come come si pensa gli adult così non ho capito daryl oddio sono così disagiati come si pensa no king shaming daryl cioè ti prego per cortesia quindi c'è una grandissima fan base di adult baby solo perché ho intervistato due persone adult baby eh attenzione ricordi con l'emoticon del famoso cerbiatto a proposito di manner cord l'ho messo anche nell'intro su durante l'intro su instagram nelle stories mi esce come ricordo su facebook cinque anni fa 21 dicembre 2018 avevo perso da poco mio padre da un poco più di un mese però ok seguiti questi pusillanimi del cerbero podcast su twitch è stata la mia prima apparizione dal vivo però con la maschera sul web in generale proprio perché io prima aiutavo gianluca con come voce fuori campo perché prima facevano le live marra e simone insieme e poi passavano la palla la sera o il pomeriggio dipende a gianluca io gli davo una mano con la voce fuori campo questa fu la primissima volta che io mi sono fatta vedere sul web con la maschera poi tra l'altro di gianluca io me la ricordo benissimo questa live una live follia dove stava marra in un negozio tipo di personal trainer comunque un negozio con di oppure di sapete quelle cose gli alimenti sportivi non lo so di bibitone cose poi all'improvviso entra Pela Daniele dei The Suckers con quella follia più totale è vero quando faceva le live da solo sì 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 e quindi mi è uscito questo ricordo e niente lagrimuccia io poi sono tendenzialmente un po' nostalgica nostalgica nel senso che nostalgica dei ricordi passati ovviamente di ciò che ho vissuto onestamente e quindi niente vi ho raccontato vi ho detto della maratona del 24 ah in più il 24 ho intenzione di mettere discord discord aperto per chi vuole passare vuole fare gli auguri vocalmente così io per me non ci sono problemi anzi ci siamo gli auguri e tutto quanto in più domani dovrei far partire lo devo registrare ma già ho fatto lo script dovrei far partire no in quel senso doten non in quel senso io sapevo che diceva così dovrei far partire un nuovo piccolo format su instagram chiamato creators corner dove io parlerò fondamentalmente di farò delle riflessioni su tutto ciò che riguarda il mondo del content creator del content creating come si può dire del mio lavoro su come streamer di quali possono essere gli aspetti positivi e negativi cioè sarà un piccolo diario onestamente e domani parlerò della FOMO digitale fear of missing out però sul mondo digitale come content creator e di un aspetto in particolare quindi mi raccomando seguitemi anche su instagram punto esclamativo social in modo che domani pomeriggio vi ritroverete questo questo contenuto lo devo registrare e montare però lo script l'ho scritto stamattina oltre a fareste stronzate grafichette all'epoca seguivo il cerbero e ti ho conosciuta con la live sull'anoressia e facesti conflitti sì sì proprio una delle primissime live ma era dopo che mi ero mostrata per la prima volta ovvero quella fotografia lì ma esiste certo Daryl che esiste la FOMO digitale ovvio la paura di restare fuori da alcuni spazi sociali esiste anche in forma digitale Daryl quindi niente sono entrata Anna mi dice che è nostalgica sono confuso no Damia non ti preoccupare nostalgica delle cose che ho vissuto ci mancherebbe altro va bene allora detto ciò di domani sera vi ho avvertito quindi domani andrò in live leggermente prima perché io alle 20 e 30 massimo 20 devo staccare che devo andare a Ciampino ciao Saretta buonasera come stai cuoricini per te ora passiamo al contenuto di oggi oggi ho voluto un attimino smorzare il mood perché in questi giorni abbiamo parlato appunto di notizie di attualità tematiche sociali alcune molto anche delicate e onestamente la cosa inizia un pochino a gravare ma arriva sempre verso il dicembre novembre dicembre inizia a gravare un po' sulla mia salute psicologica e quindi no ho bisogno un attimino di staccare un po' la spina rispetto a queste classiche tematiche che io amo adoro per me una vocazione una missione voi lo sapete però comunque piano piano c'è sempre il tarlo dentro che comunque ti mangia e ti rosicchia in qualche modo piano piano e va a gravare sull'aspetto emotivo e psicologico no ma in Blue Monday non credo non ci credo al Blue Monday Daryl Blue Monday è una cosa esiste la canzone dei New Order basta quindi oggi ho pensato ma dato che comunque è un bel po' di tempo che non facciamo un Q&A facciamo sempre spesso e volentieri speak to us che comunque ritornerà in questi giorni perché non fare una live dove mi rispondo alle domande che volete farmi così una live Q&A voi domandate e io rispondo con estrema sincerità Blue Monday 88 io me l'accollo esattamente Valentina esatto quindi sia in chat che anonimamente se siete delle persone pavide anonimamente su NGL potete farmi tutte le domande che volete io vi rispondo con estrema sincerità quindi io direi di andare a vedere su NGL principalmente che cosa mi avete scritto ma sentitevi liberi e libere di scrivermi anche ciò che volete in in chat ok senza problemi io rispondo con sincerità oggi mi metto a vostra disposizione e daglie 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 vediamo un attimo che cosa mi avete scritto alcuni in realtà alcuni messaggi me li sono spoilerati andiamo a vedere allora NGL la musichetta ce l'ho a posto vediamo un attimo che cosa mi avete scritto NGL sto piano fuoco intanto rispondo con sincerità ragazzi non abbiate paura di chiedere non abbiate paura ragazzi ma è impossibile però e che diamine ma nel tempo proprio di iniziare a fare cioè quell'oretta classica di chiacchiera introduttiva per le live mi avete già riempita di nuovi messaggi siete persone curiose eh scuola bella domanda bella domanda ma io allora no ragazzi ma quanto cazzo chiedete però quanto siete curiosi cavallo curioso cavallo goloso delfino curioso che l'ero cavallo che era goloso invece il delfino era quello curioso una vecchia cheat di una pubblicità degli anni inizio 2000 probabilmente allora chiede scuola domanda università come va continui allora rispondo sinceramente do for esatto rispondo sinceramente io ho frequentato l'anno scorso no quest'anno in realtà io già sono nel 2024 ragazzi delfino curioso veniva al mio liceo veramente il tizio del delfino curioso ma vieni un attimo cioè Peggle buonasera Peggle mi hanno detto che hai fatto la live con Futurmotta ma è vero ma Peggle tu che vuoi fare tu me lo devi dire è la live con Palle Wom è la live con Futurmotta poi scrivi nella chat di social boom ma la vuoi finire stai diventando un maranzino e lo so scuola aspetta ti spiego un attimo ti credo Saretta ti credo no guarda non ti ha salutata nella live con Futurmotta piccola live ma dove 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 Peggle su Twitch su Kik su Instagram dove l'avete fatta sta live vabbè vabbè ma ormai Peggle l'abbiamo perso sta diventando un maranza io ormai non mi fido cioè già non mi fidavo di Peggle ora ancora di più che non mi fido scuola allora ti rispondo tu mi devi avvisare quando fai ste cose eh ma fatemi rispondere a school io quest'anno ho seguito il corso di filosofia femminista e studi di genere 2 con estremo piacere anche se con estrema difficoltà perché ritornando all'università dopo tempo dopo 4 anni che avevo lasciato non è stato semplice però da una parte mi ha anche rinvigorita nel rinvigorita dal punto di vista di socializzare in qualche modo con le persone persone che alcune la maggior parte di queste erano più piccole di me ormai confrontarmi con colleghi universitari parlare ritornare negli spazi e tutto quanto l'unica cosa che superata quella fase lì che un pochino mi metteva ansia e avendo recuperato poi tra l'altro il pagamento di tutte le tasse arretrate ci sono due problemi sussistono due problemi il primo è che devo pagare le tasse di quest'anno e quindi e ancora le devo pagare ci è caduta la mora sopra sicuramente è tutto avrei intenzione avevo intenzione a gennaio febbraio di dare degli esami me ne mancano tre più la tesi ed è vero pesa su di me sta cosa perché io ho fatto la promessa a mio padre di laurearmi alla magistrale mo si sono passati quattro anni si è vero che comunque non è che mi sono girata i pollici ciao sbabsi non è che mi sono girata i pollici io comunque ho intrapreso questo percorso sul web comunque mi sono messa a lavorare però comunque il primo problema è quello là proprio di tipo pratico cioè devo pagare le tasse devo recuperare tutto però ho avuto altre spese quindi insomma devo capire un attimo se riesco per gennaio febbraio a far tutto e quindi accedere eventualmente anche semplicemente a fare solo un esame uno per volta se io voglio fare un esame per volta a sessione tipo uno a gennaio febbraio un'altra ad aprile e l'altra a giugno e però contemporaneamente strutturare anche la tesi in virtù della laurea ad ottobre così ottobre 2024 il mio sogno sarebbe quello di laurearmi entro il 2024 seconda cosa trovo difficoltà a far combaciare il mio lavoro cioè Twitch il lavoro da content creator e tutte le altre cose che stanno uscendo con lo studio perché io quando studiavo mi isolavo completamente facevo quello dalla mattina alla sera ma sono una persona estremamente esigente io non vado a fare l'esame per provarlo punto e basta no io se vado a fare l'esame devo essere sicura che ho la padronanza di quella materia altrimenti vado in ansia e non riesco a trovare un equilibrio tra le cose dovrei in qualche modo rinunciare un pochino o ridurre l'orario di Twitch delle live di Twitch e tutto ciò che sta attorno per poter studiare però poi all'effettivo così su questo mondo sul web nel mondo digitale se tu allenti la presa muori muori totalmente poi in più sono usciti fuori altri progetti da metà febbraio ci sarà la registrazione di questo nuovo format musicale con uno sguardo sull'introspezione e sulle tematiche sociali che prevede otto puntate fino a luglio poi stop poi si riprende ad ottobre insomma sono uscite queste altre cose e devo riuscire un attimino a capire come far combaciare il tutto io però dentro di me dentro di me non ho abbandonato minimamente l'idea di laurearmi alla magistrale perché è come se avessi lasciato qualcosa indietro lo sento proprio cioè che un capitolo della mia vita non si è concluso e un pochino anche il rimorso di averlo fatto eventualmente se ci riuscissi averlo fatto in ritardo con estremo ritardo aver perso tutti questi anni per poi che cosa dare tre esami inatesi cioè quindi questa è la mia risposta tosta così anche io sono così io mi chiudevo completamente ragazzi quando studiavo non avevo orari cioè poteva essere dalla mattina la notte poi magari andavo a dormire alle 13 mi svegliavo alle 7 di sera riattaccavo alle 7 e mezza studiavo fino alle 5 alle 6 del mattino cioè una cosa proprio così ero abituata poi il mio metodo di studi è molto complicato perché non si tratta semplicemente di prendere il libro soprattutto a filosofia di prendere il libro sottolineare immagazzinare punto e basta prendi il libro fa una prima lettura poi sottolinei poi prendi il quaderno fai lo schema in base a quello schema non i riassunti agli schemi io vado molto per simboli procedo molto per simboli così quindi lo schema con la freccia il dettaglio la cosa il richiamo quindi poi prendi quello schema lo dovevo ripetere non una volta una prova e poi tre volte infatti tutti i miei quaderni dell'università hanno sopra le pagine del quaderno uno due e tre sbarrate perché lo dovevo ripetere tre volte poi prendi finisci un capitolo fai un recappone di tutto quello che hai studiato è molto particolare e complicato probabilmente la dovrei prendere un pochino più alla leggera è così la dovrei prendere un po' più leggermente senza pretendere il 110 e l'ode perché comunque io concorrevo per la seconda volta per il 110 e l'ode e sti cazzi cioè dovrei pensare a concludere questo percorso piuttosto che a eccellere in questi tre esami eccellere nella formulazione della tesi perché capito mi devo imporre questa questa perfezione che poi tra l'altro questo è un problema che mi ha creato principalmente mia mamma che mia mamma era tipo che hai preso 30 30 e l'ode che hai preso 30 ma come hai preso 30 e la lode oppure mamma ho preso 29 a solo come a solo cioè io alla triennale ho rifiutato i 29 io ho rifiutato il 29 di storia della filosofia antica dopo 10 giorni avevo un'altra data ma quando uscì che rifiutai tutti mi chiamavano pazza perché? perché teneva la pressione mia mamma eh no smilza guarda adesso onestamente sono maturata da quel punto di vista un pochino me ne sbatto in realtà sono anche molto invogliata non solo a mantenere la promessa fatta a mio padre di laurearmi alla laurea magistrale non solo perché sento dentro di me questa questa mancanza come se avessi qualcosa di inconcluso nella mia vita che comunque mi trattiene subdolamente mi trattiene cioè c'è sempre quella cosa del sì ok ma stai laureando stai lavorando però ricordati che ti devi laureare c'è sempre il suo pensiero intrusivo dentro di me c'è anche il fatto che comunque io vorrei scrivere una tesi volta alla pubblicazione ad una successiva pubblicazione possibilmente o in filosofie sociali o in storie delle filosofie femministe studi di genere e fare una sorta di tesi sperimentale e questo mi dà in realtà mi incentiva a voler laurearmi ancora di più sei in un bivio non posso dirti quale strada a scegliere sei in grado di sapere cosa fare anche se è difficile molto difficile school molto io sottolineo la prima volta e poi ripasso all'infilito ma io ho fatto schemi no e me gli schemi servono un botto Sbabsi dice fai bene io ho lasciato l'accademia a quattro esami e mezzo dalla tesi senza congelare era annuale pure io non ho congelato Sbabsi non c'è una decisione che rimpianga di più nella mia vita se avessi congelato l'annualità avrei concluso il percorso già un paio di anni fa invece rimane lì tra i fallimenti non finiti io non lo vedo come un fallimento però forse non dovresti vederlo manco tu così non so quanto tempo è passato per te non è importante quanti anni sono passati me sono passati quasi quattro anni però hai capito il fatto di congelare significa vabbè dai poi posso fare lo scongelamento dagli studi quando voglio invece no cioè io voglio tenere la pressione addosso del io le tasse le pago io sto pagando in questo momento poi per il congelamento mi sa che comunque c'hai un tempo massimo per tenerlo congelato quindi non non ti so dire guarda Sbabsi onestamente ti sono sincera io comunque sogno di laurearmi nel 2024 l'unica cosa che mi fa molta paura vi sono sincera mi fa molta paura scusatemi adesso un attimo un po' così agola allentare la presa su Twitch perché comunque è la mia unica fonte di guadagno né su scorna per terra dovrebbero subentrare altre forme di guadagno perché dovrei collaborare con delle persone per delle fiere ma non basterà non basterà perché sarà qualcosa di saltuario non è qualcosa di fisso ogni tanto soprattutto ultimamente io ve l'avevo detto già nei mesi scorsi ogni tanto penso di sogno di voler mantenere in qualche modo di non avere la precarietà che mi dà Twitch soprattutto dopo quello che è successo con dicembre il mancato pagamento che per un loro errore ho proprio assaporato la la precarietà di questa piattaforma il modo di non poter comunicare il disagio sotto Natale alla fine dell'anno veramente è stata brutta come esperienza mi è stato anche offerto un'altra posizione lavorativa in un'azienda che ho rifiutato ho rifiutato perché altrimenti avrei dovuto abbandonare il mio percorso sul web detto molto onestamente non ne avrei avuto il tempo un lavoro che iniziava dalle 8 del mattino finiva alle 18 e 30 con ovviamente pausa pranzo e tutto quanto sotto apprendistato che sarebbe durato tre anni con un rinnovo con un contratto effettivo se poi c'era appunto la conferma però ragazzi io ormai ho iniziato questo percorso ancora ho tante altre cose da fare quando mi sentirò satura e scevra delle cose che ho da dire del mio contributo sul web allora a quel punto poi eventualmente vedrò che cosa fare sta di fatto che comunque sono un attimino spaccata in due perché appunto la precarietà di questo lavoro è qualcosa che mi attanaglia onestamente però io ringrazio voi che ci siete che mi supportate e io questo lo devo dire mio padre insiste che io prenda la specialistica non ha capito che andarsene sotto i pidocchi rifatti che sono certi prof c'ho proprio voglia è bastata la prima dice Daryl ma posso farti un contratto di apprendistato dopo 29 anni eh sì invece sì mi avevano detto questo detto questo apprendistato boh sarà stata una stronzata a me questo mi è stato detto che sarebbe durato tre anni e poi se eventualmente ci fosse stata una riconferma messa sotto contratto a Roma un'azienda a Roma boh magari hai capito male che non è apprendistato un simile apprendistato non lo so però comunque sarebbe durato tre anni e da alcune persone che già lavorano in questa azienda mi è stato detto che ci sono tipo una sorta di guerriglie tra virgoletta tra le varie persone perché chi sta sotto contratto effettivo prende di meno rispetto a chi sta sotto apprendistato il contratto apprendistato ha l'obbligo di assumerti dopo tre anni ha proprio l'obbligo quindi sarebbe stata un una garanzia quasi però ragazzi io non avrei avuto il tempo non avrei avuto il tempo e come cacchio facevo cioè avrei dovuto abbandonare tutto questo lo potevo fare per hobby però puoi iniziare fino ai 29 anni e 364 no non è possibile perché noi tengo 33 una cazzata il contratto apprendistato si può fare tra i 15 e i 29 anni greve 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 ma queste persone allora forse non sapevano della mia età perché io ce ne ho 33 ci sono anche gli apprendistati senza limiti di età non sono tutti entro i 29 ecca alla Daniello no però cioè effettivamente io mi sono presentato come 5 9 90 cioè loro lo sapevano 5 settembre del 1990 quindi ti fai un calcolo 33 anni non vi posso dire che azienda perché dipende dall'azienda dall'ambiente non c'entrava col mondo del web non c'entra oh sì eh oh sì non posso essere troppo specifica oh sì va bene Squall penso che comunque la domanda la domanda ti ha soddisfatto cioè la risposta ti ha soddisfatto quindi dice Daniele che non ci sono ci sono anche apprendistati senza limiti di età perfetto tanto da quello che sembra comunque conveniva a loro da un certo punto di vista che ho parlato con delle persone che mi stanno che mi seguono mi stanno accanto comunque vabbè sono eccessioni ma ci sono quindi dipende dal settore probabilmente allora se non avete altre domande in chat ok mi chiedono su NGL eccolo qua due specie che ti spaventano o ti fanno schifo puoi scegliere tra animali e insetti ok gli insetti non sono degli animali a parte gli esseri umani non è scontato specificarlo due specie gli esseri umani e gli insetti che mi fanno sia paura che schifo sì ma sì ma non mollo ok voglio vederti con la tunica speriamo che questo 2024 possa portarmi l'equilibrio che vorrei quindi di conseguenza anche eventualmente io ci metto l'impegno per laurearmi non lo so cioè ah no vi sono scarabbiotico ma andrei l'unico scarrafone sei tu ok in chat ho due specie no ragazzi due specie che mi fanno paura o che mi fanno schifo a me raga l'unica cosa mi fanno schifo gli insetti tutti i tipi di insetti cioè non è che mi fanno schifo un po' schifo un po' paura in realtà ho proprio una fobia c'ha pure un nome però strano è la fobia degli insetti nome particolare tipo ragni squalo tigre no allora i ragni sono fanno parte della categoria degli arachno qualcosa che non sono proprio insetti però io lo metto nella categoria sbagliando la categoria degli insetti tipo così per esempio come i conigli tutti pensano che i conigli siano dei roditori sono dei leporifari se non sbaglio non sono proprio dei roditori però per me sono roditori cioè nella mia testa così arachnofobici sì etomofobia entomofobia esatto esatto splatter io si riguarda abiti infastidisce troppo non vorrei amareggiarti potete chiedere quello che volete ragazzi si può parlare in maniera dovuta di tutto fragola tra gli insetti che mi fa cioè io ovviamente se mi trovo un leone davanti probabilmente avrei paura ma c'è stato un periodo dove avevo paura anche dei gabbiani perché erano troppo minacciosi soprattutto a Roma si piene con friends questi gabbiani poi tra l'altro fanno i bustdiel con i piccioni e questa cosa non mi sta bene li bullizzano non mi sta bene rispetto per i piccioni bullismo da parte dei gabbiani hanno uno sguardo arcigno poi sono enormi i gabbiani non lo so se li avete visti mai a distanza ravvicinata a Roma è povero gabbiano però io ho proprio la fobia degli insetti tra gli insetti tutti gli insetti tutti tutti gli insetti però qualcuno lo tollero tipo per esempio la formica il moscerino e basta la mosca mi fa paura si ragazzi le mosche normali a me fanno paura io se avessi una mosca nella stanza ma tanto tra l'altro ragazzi ma che cavolo vi dico cioè è capitato spesso e volentieri che io stessi in live entrava una mosca ma io che salto faccio chiamo qualcuno con quellina cosa per farla scacciare via cioè ho paura pure a partire dalla mosca la mosca mi fa paura la coccinella mi fa paura bellina la coccinella fin quando sta ferma e non svolazza mi fa paura tra gli insetti invece quelli che mi fanno più paura sono scarafaggi blatte cavallette grilli questi qua questi qua eh le cavallette sono orribili li tolleri perché sono piccoli body shaming però pure la coccinella è piccola sbabsi attenzione però pure quando svolazza mi fa paura le farfalle le farfalle le falene oh maronna mia cioè sai chi si fa il tatuaggio con la falena così desist bruttissimo bruttissimo ragazzi la falena ma voi l'avete mai vista mi è mai entrata una falena in stanza scarafaggi bruttissimi ragazzi bruttissimi cioè però ho paura soprattutto degli animali che volano se no no smirza tu giorno mi sta venendo panico veramente non non è possibile non ma pure le farfalline quelle la piccoline cioè non 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 mi fanno paura raga non le tollero mi dispiace cioè vado in panico cioè o lei o me è così vado in shock questo è quello che mi può capitare andata per gabbiana e cavalletta grazie ah coming eri tu no sì gabbiane e cavalletti il gabbiano perché lo vedo minaccioso e poi soprattutto quando sta nello storm in gruppo pericolosi secondo me e sì gli insetti cavalletta cioè le lucce no ragazzi ma poi pure le farfalle no pure quelle là tutte ragazzi io vi devo raccontare questa cosa cioè a me io una volta stavo conoscendo un ragazzo anni fa no stavo a Roma già mi ero trasferita a Roma questo qua piglia ma forse già ve l'ho detto ormai dopo quattro anni quante cose ho detto e mi sono dimenticata cioè ottima contrapposizione piccione e coniglio e questo ragazzo mi cioè doiamo vederci per la prima volta ti porto da una parte una sorpresa non è una sorpresa quello quell'altro così e quelli ricetta bene dai belle le sorprese mi piacciono le sorprese ok e mi dà mi dà una punta no un orario e un luogo non ho paura degli insetti ma devo dire che le falene sono aggressive io sono stata bullizzata da una di loro e continuavo a caricarmi no no guarda Sbabsi è una scena bruttissima mi sto impanicando te lo giuro cioè no Sbabsi basta non comunque mi invita mi dà una punta a sta parte mi dà sta punta io vado tutto quanto tutto a posto ragazzi lo incontro io non sapevo niente del posto così all'improvviso ragazzi ma vedi cioè non era una farfalla era un fenicottero proprio a forma insetto cioè un fenicottero a nanzi a questi rigo maronna ma che cazzo io ti ho portato nella casa delle farfalle e ho detto tu mamma mia ma qua casare in farfalle fratello come si chiama questo posto a Roma c'ha proprio un nome non il giardino orto ai botanico no c'ha proprio un nome tipo la casa delle farfalle così no ma quelle ci stanno queste farfalle mi fa avere tipo dei plan certi certi elicotteri che samaner ho detto no fratello mi sto sentendo male tu giuro ho detto ma come io ho pagato il biglietto ho detto e chiama una tua amica non lo so qualcuno io purtroppo non posso accompagnarti ma no si ho capito no smilza bruttissimo bruttissimo ho detto guarda potevi potevi cioè nel senso scegliere qualsiasi tipo di posto ma guarda proprio questo è quello meno indicato cioè mi è uscito un tiktok giorni fa su sto posto veramente no vabbè ma è stata anni a me piacciono le farfalle ma così è troppo ragazzi dei farfalloni di questa maniera eh ma questa è una farfalla dell'africa che poi che c'ho fa in Italia no 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 non esiste no io le dissi no scusami non mi dire niente cioè ma io ho pagato il biglietto ho detto ti ringrazio un sacco ti ringrazio un sacco però cioè tu devi chiamare praticamente pure l'autobulance per forza perché io muoio cioè mi sentirò male io non ho dai ah vieni ma quello magari sta accompagnato ma come non fotta accompagnato ma che ma non esiste ma non esiste proprio dissi guarda scusami veramente ti do i soldi del biglietto però io purtroppo non ce la faccio cioè io non ce la faccio ci rimase malissimo non ci siamo beccati più eh ragazzi ma che devo fare per me è un trauma preferisco ritrovarmi una vedova nera davanti piuttosto che una farfalle posso dire la verità anche io ma pur una tarantola piuttosto che un farfallone che ti vola in faccia assolutamente no vabbè i rettili non mi fanno niente raga cioè ti piace ragazzi ma che cosa c'è di bello nelle farfalle se poi allora se voi togliete le ali cioè non che le dovete togliere le dovete strappare le ali ci mancherebbe cioè tolte le ali vi resta questo insettone lungo è bruttissimo è bruttissimo comunque fare le sorprese dovrebbero sapere se l'altra persona ha fobie esatto è molto comune io voglio smilza tu come l'avresti presa se ti avessi invitata una persona a sorpresa una cosa del genere le libellule pure oh mamma mia per carità appena ci sta un piccolo stagno una cosa queste cose no raga mi fanno paura gli insetti dai basta sarei scappato urlando piangendo no io c'avevo la tachicardia io stavo andando in panico mi sta venendo un attacco di panico raga cioè ti ho portato in questo poi vedi qua là mentre io dice un farfallone che mi passa davanti stai a fuori cioè no ragazzi allora non è pelosina carina la farfalla però temo le formiche anche io no io le formiche non le temo ho un grandissimo rispetto per le formiche e per le api soprattutto le api la costruzione sociale che c'è dietro come se io mi affascina molto idem per quanto riguarda le formiche però onestamente no allora fatemi recuperare un attimino il messaggio di fragole e panna intanto bevo un pochino pure le lucciole mi fanno schifo ragazzi cioè le lucciole prima lei poi te vi segui a prezzo entrambe per motivi diversi però da parte tua c'è la volontà di risolvere la cosa no assolutamente no ti posso dire fragola non mi interessa non è un mio pensiero a differenza di post scioglimento di idra selvaggia dove veramente stavo male mi dispiaceva per tutto quello che era successo ero in collera perché poi ci sono state tante situazioni che voi non sapete né niente questa volta credo che ciò che ho sentito e ho visto è stato completamente gratuito e non me l'aspettavo da una persona a cui ero così tanto affezionata e in proporzione all'affetto che provavo per quella persona quello che mi è stato fatto onestamente mi ha portata direttamente a non pensarci proprio più quindi no non ci sono rimasta non ci sto male anzi forse ti posso dire è stato come un ramo secco da recidere definitivamente punto e basta detto molto onestamente credo che io una persona che si descrive come estremamente empatica come una persona estremamente sensibile una persona che non avrebbe fatto del male quando poi così è tutto chiacchiere per quanto mi riguarda e sto molto meglio così onestamente ti giuro quindi no mi dispiace non non mi interessa proprio più interagire ma in generale proprio con persone del genere non mi fanno stare bene non non mi interessa avere rapporti con persone del genere e da parte mia non c'è la volontà di tendere una mano l'ho fatto in passato visto che l'avevo contattata io posti tra selvaggia dopo tutto quello che era successo ma la seconda volta no onestamente no perché quello che è stato fatto e quello che è stato detto è stato completamente gratuito lo so che lei a volte parla di me mi dispiace se è rammaricata io purtroppo ragazzi non non provo lo stesso ve lo dico proprio col cuore in mano penso che sia stata la vedo come una persona del mio passato a cui ho voluto un bene dell'anima ma proprio perché ho voluto un bene dell'anima è stata così grande la delusione che ho provato che ora è come se non provassi più niente ciao vorgen buonasera figurati fragola non ti preoccupare allora io direi di andare a vedere vi ripeto non ho problemi a parlarne cioè tra l'altro è cioè so io è la mia vita è quello che provo dovrei mentire mi dispiace per come sono andate le cose però onestamente cioè per esempio poi in questi giorni non mi è venuto in mente quando tipo per esempio l'anno scorso a Natale stavamo insieme che venne qua cioè venne a Roma stava a casa mia ci mettiamo a giocare tipo a Pictionary cioè io ovviamente ci penso a queste cose non è che non mi piglio collera e tutto però veramente se solo penso a quello che è capitato a luglio in quel periodo storico che stavo vivendo cose di cui lei era informata sapeva e la gratuità delle cose che ha detto anche solo semplicemente sul suo gruppo telegram dire dramma questo quell'altro andiamo contro Ann eccetera eccetera onestamente mi ha fatto veramente schifo anche come ha svolto il tutto tipo per esempio fare tre live su una frase che ho detto in un minuto a seguito di un suo errore peraltro no vabbè io non cioè io così non mi comporterei con le persone a cui voglio estremamente bene ma assolutamente ci sono delle persone che mi stanno a fianco che passano dei periodi non semplici a volte per esempio capitano delle incomprensioni delle mancate comunicazioni per carità di Dio ma tutto per lo sciopa cosa hai capito cioè non no no poi è cambiato leggermente il mio parere su di lei come persona in generale e degli obiettivi che comunque si pone credo che sia tutto volto al soldo soldi 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 non c'è nessun anno nessun altro davanti i soldi i soldi sono l'obiettivo principale quando poi per me invece sti cazzi dei soldi io do molto valore alle relazioni interpersonali con Chiara non c'ho niente anzi l'ho beccata abbiamo parlato a Milano Games Week avevo parlato pure l'altra volta che l'avevo invitata al talk mi aveva detto che stava a Milano dalla sorella e tutto quanto non ho proprio problemi con Chiara è una delle persone che stimo di più sulla piattaforma anche se comunque a Bicocca mi diceva che a Chiara io stavo sulle palle però poi ha accettato di partecipare al mio talk tranquillamente con entusiasmo mi ha sempre parlato con estremo piacere è questo chi è a livello professionale che ero soggetto i rapporti si mandano avanti in due altrimenti non ne vale la pena sì 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 mi sono perso un po' di cose ho recuperato genitore uno all'aeroporto e domani andiamo a Berna bello doppia e chi va a Toglia e chi va a Berna ciao Lorenzo buonasera beati voi ragazzi beati voi vedetevene bene di questi viaggetti ciao Caramel buonasera ma io non non ho mai avuto da dire nulla su Abicocca a livello professionale anche perché comunque è stato il mio primo canale che ho seguito su Twitch seriamente perché seguivo i suoi video su YouTube livello professionale non so che cosa dire non sto seguendo più quindi non lo so fino a quando seguivo io mi teneva compagnia stavo con piacere nella community per me era una seconda famigliola mi sentivo al sicuro mi divertivo mi ha aiutata molto anche nel suo contenuto di intrattenimento oppure delle cose divulgative che ci abbiamo dato per esempio tantissime informazioni per quanto riguardava l'aspetto animalista l'antispecismo il veganesimo cose di cui io non ero a conoscenza quindi si e niente questo è poison come mai esci sempre quando si fanno delle domande particolari di questo genere tutti gli altri giorni dove sei poison ti chiedo eh ti chiedo con curiosità nemmeno come colleghe potete riavvice non credo che si possa avere un rapporto di professionale se le persone comunque a livello umano non si stimano che ero assolutamente una volta ho fatto l'errore idraselvaggia dove ero scesa a compromessi di collaborare con quell'altra bugiarda narcisista di bugalalla ma l'errore è stato più grande infatti cosa hai visto che fino a fatto no voi collaborereste con persone in uno spazio dove non c'è l'urgenza di collaborare con delle persone che non stimate a livello umano chiedo eh qua a me nessuno mi obbliga di collaborare tra l'altro poi una cosa di cui parlerò appunto nel nuovo formattino che metterò su instagram domani questo formattino che io ho intitolato creators corner dove parlerò appunto di fomo digitale di collaborazioni di cose ciao Eno buonasera Twitch non mi obbliga a collaborare con le persone cioè se magari stai in un'azienda eh eh state c'è un capo c'è comunque un ambiente che vi mette costretti a collaborare con dei colleghi delle colleghe stare nello stesso spazio per forza di cose e là dico sì ma Twitch mi dà l'opportunità di non collaborare con persone che io non stimo a livello umano voi se avreste l'opportunità di poter scegliere cioè voi avete la libertà di collaborare con chi volete però costringervi a collaborare a livello professionale con delle persone che non stimate a livello umano lo fareste? eh che ero è andata così che bisogna fare pure io sono rimasta molto dispiaciuta solo chi mi è stato accanto per davvero sa quanto sono rimasta dispiaciuta ora come ora no onesta ho superato alla grande la cosa cioè però è stata molto breve cioè il superamento la fase di superamento è stata molto breve perché talmente è stata grossa la botta talmente è stata grande la delusione che una certa quasi non ha fatto più male manco pagato dice doppia la stima è la base per riuscire a lavorare serenamente altrimenti ci si intossica vero vero vado a rivedermi tutti i video sul tubo dove ha litigato con mezzo Twitch per essere preparato ma non è proprio così Poison forse ti stai perdendo dei tasselli esci sempre per rompere il cazzo Poison non a caso sei un utente sospetto sotto monitoraggio guarda caso caro Poison no no non ho litigato con mezzo a Twitch ho litigato eventualmente ho preso le distanze con le persone che io non stimo e che mi hanno fatto dei danni quindi ecco quella è la risposta opportuna e poi ho altrettanti collaboratori e collaboratrici che invece continuano a collaborare con me anche dietro le quinte con grandissimo piacere te lo posso assicurare Poison bene ciao Isabella buonasera poi 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 ho messo Malex non ci mettiamo a fare il regappino pure su quell'altra persona questa situazione mi spezza il cuore perché vi adoravi insieme per fortuna ho le live di Hydra su Youtube che io ho il rimpianto di aver lavorato da dipendente con gente che disprezzo figurarsi se avessi potuto scegliere dice Sbabsi bene allora io direi andrei avanti con NGL a questo punto mi scrivono qui sei sicura al 100% che non vuoi figli nella tua vita no non sono sicura ciao River non sono sicura al 100% di non volere avere figli nella mia vita però mi rendo conto che l'orologio biologico sta andando avanti ho 33 anni mia mamma andò in menopausa molto giovane a 35 anni non so se c'è una sorta di ereditarietà in tutto questo oppure no però credo che comunque per poter avere un figlio si devono avere comunque delle basi certe soprattutto a livello economico a livello di equilibrio psicologico e se dovessi mai raggiungere questi equilibri qui forse nel caso probabilmente ovviamente non posso fare i figli da sola posso anche adottare volendo perché no perché io comunque la metto nella prospettiva anzi se io non dovessi essere più fertile mettiamola così corna per terra però se io non dovessi essere più fertile io onestamente tranquillamente se mi si dà l'opportunità adotterei pure anche perché comunque sono cresciuta da quando ero poco più di adolescente sono cresciuta con la cosa che mio padre aveva adottato di questa cosa ve ne ho parlato no una bambina è stata per oltre 15 anni con noi però a distanza era del Ghana Doris Afisasu si chiama ormai adesso è adulta e comunque ho il ricordo bello di quell'interazione ma anche l'adozione proprio a livello della persona all'interno del nucleo familiare quindi proprio a stretto giro con il riconoscimento appunto di me come mamma a livello giuridico se fosse perché no perché tanto io non credo che i figli siano solo quelli che li ha fatti o li ha partoriti io credo che comunque i figli possano essere anche delle persone che li crescono con amore per cui ciao uomo buonasera buonasera quindi ecco non lo escludo se non dovessi essere più fertile per una certa età non escluderei lì dove mi si dà l'opportunità la possibilità l'adozione questo al momento non ci penso ai figli non ci penso sono sincera sarebbe un danno sia a me che al nascituro quindi no allora ecco altra domanda su abby ma credo che comunque abbia risposto esaustivamente pensi ti avvicinerai mai ad abby nella tua vita farete pace prima o poi ma non credo poi da dove nasce il tema del canale di sauron allora nasce tipo due anni e mezzo fa quando appunto c'erano diverse persone della community che mi riportavano delle cose che io non riuscivo a vedere in giro su questa piattaforma tipo persone che scopiazzano grafiche format modi di dire modi di fare idee oppure persone che scopiazzavano le emoticon e io non me ne accorgevo quindi lì mi venne un giorno da fare la battuta qua e che siamo un po' come i figli di sauron e che sauron vede a occhi ovunque e vede tutto e da allora poi è nato il meme i figli di sauron perché voi siete gli occhi miei lì dove i miei occhi non riescono ad arrivare e questa cosa ancora continua e poi comunque ci è piaciuto ci ha divertito il meme di sauron e l'abbiamo portato avanti fino alla mia ventina d'anni la mia famiglia aveva adottato a distanza un ragazzo filippino l'ultima cosa che so di lui è che è diventato un missionario che bello occorre sacro di sauron poi c'è pure l'npc fake di giorgia meloni che fa sta cosa quindi tutto ritorna e questo e mi diverte molto il meme di sauron devo essere sincera anche se ormai un pochino lo trovo anacronistico rispetto ai tempi passati però io lo voglio mantenere ancora vivo perché mi fa ridere che già fa io ho convinto fosse Valentina non ero Valentina Dave bene poi come mai a Peggle non gli è stato ancora ridato il VIP perché non se l'è guadagnato non se l'è guadagnato alla Milano Games Week non se l'è guadagnato quando siamo andati al talk al wishlist caffè non se l'è guadagnato quando ho fatto il talk l'altra sera che poteva usare c'era un palco poteva fare di tutto e invece no Peggle è l'unica persona che si può e anzi si deve guadagnare il VIP su questo canale poi tra l'altro c'era Andrea Di Paperopoli che una sera stavamo al sushi andavamo a cena e c'era Andrea Di Paperopoli con Peggle e Andrea Di Paperopoli che in mezzo lo sfida ciao Nez buonasera che in mezzo lo sfida e dice tu ti lamenti che ti devi guadagnare il VIP pensa che io ho il VIP ad Anna sul canale di Anna e non ho manco la sub Peggle che lo guarda così non ce la faccio noi gli state mettendo un po' troppa pressione addosso a Peggle ma no ma noi scherziamo ma lui lo sa Gabri ma non si percepisce lo scherzo Gabri dovresti uscire ma forse ha pressione siendo tu non lo so cioè no 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 assolutamente ormai Peggle punta ad essere un VIP in real non gli interessa più il nostro VIP il VIP sul canale sì sì ma quello Peggle si diverte cioè ma anche nello scherzo ma no Gabri ma te pare dai cioè quello è il primo che fa i TikTok divertenti e cose scende col treppiedi sotto casa sua a riprendersi ma dai cioè non è mai troppo la pressione troppo poca la pressione su Peggle ecco là no 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 dai Gabri cioè manco poi come se fossi un premio in dollari un premio in euro cioè un VIP simbolico sul canale cioè è un gioco infatti no ma che pressione su Peggle l'ultima volta che sei andata a letto con qualcuno veramente mi volete fare volete fare queste domande veramente volete fare i cazzi miei ieri sera poi la tua top 5 delle canzoni preferite eh questa è difficile ragazzi questa mi mette in serie difficoltà cioè non mi mette in difficoltà a rispondere alla domanda precedente ma questa sì è greve la mia top 5 allora sicuramente la mia canzone preferita sì con me dicevro la mia canzone preferita non ne ho mai fatto mistero ci sono però arrivata dopo anni non lo so se ancora è la mia preferita oppure no però è così è see see swallow me dei cocto twins in realtà non proprio dei cocto twins perché è la formazione dei cocto twins in collaborazione con un'altra persona comunque dall'album the moon and the melodies di cui parlerò anche su instagram sicuramente perché c'è il vinile prima stampa trovato a camden town un culo esagerato mia seconda canzone preferita penso al mio gruppo preferito che sono gli slow dive e la mia canzone preferita degli slow dive è when the sun hits quindi già ne abbiamo due le altre tre mi avvalgo del mio vecchio last fm vediamo un attimo che cosa esce meno tre oh mio dio slow dive allora sicuramente penso forse ad una canzone o degli smizzo dei cure cioè cose ragazzi molto banali però insomma con le canzoni quando le sento dico eccola è lei cioè è la mia last fm red delilium che poi tra l'altro completamente sfanculato il mio last fm ma anche il mio spotify come si chiamava recap scroll wrap perché io purtroppo a me sono quattro anni che lo scrobbling c'è la mia playlist che metto di sottofondo nelle live viene visto come scrobbling sia su spotify che su last fm come potete notare in questo momento last fm sta passando tutte le canzoni della playlist che sentite in sottofondo e questo da quattro anni quindi è completamente sfanculata la cosa però facciamo così libreria brani fino al 2020 qua ho iniziato a qua ho iniziato a a stream ma queste sono tutte le canzoni che ho stream quindi devo fare fino al 2018 dai 2019 completamente vuoto vabbè era dopo che era morto mio padre non nel 2018 voglio vedere invece le canzoni brani che più ho ascoltato dal non è solo 2018 comunque raga per me è un archivio cioè last fm io ci tengo tantissimo ancora dal 2013 quindi dal 2013 al 2019 dai possiamo mettere fino al 2019 vediamo un attimo che cosa esce dicembre che ancora non era macchiato mettiamola così applica e no e già c'erano nel 2019 già c'erano questi brani e no ma perché scusa ma 2019 2019 fra 2019 dicembre ah che hai fatto oggi applica cosa dice eccola là e infatti la mia canzone preferita è si si riconferma lei quindi a posto in realtà come seconda canzone preferita è when the sun hits degli slow dive però casa abbatte pure con ellison degli slow dive è vero è vero allora second skin potrebbe essere assolutamente una terza papabile canzone canzone a cui sono affezionata tantissimo quindi terza human day dive sapete che non lo so no 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 canzone preferita in assoluto eh per esempio degli smiths questa è una piccola chicca raga degli smiths la mia canzone preferita è si there is a light that never goes out ma ma se vuoi fare radical chic della situazione while i wonder è la mia preferita degli smiths bellissima e winter day cure day cure in realtà per il quarto posto ci vorrebbero i cure qual è la mia canzone preferita day cure no ragazzi è difficile sta domanda io posso dire soltanto le prime tre dai cioè second skin ci sta dei chameleons si this is one of me when the sun hits degli slow dive second skin dei chameleons there is a light that never goes out barra while i wonder degli smiths manca manca quella dei dei cure perché sicuramente penserei subito ai cure dei cure non lo so non lo so è difficile raga dei cure non lo so non lo so non lo so short term effect the last day of summer potrebbe essere a forest no all'alabay no 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 ragazzi nell'alabay the last day of summer ci sono molto affezionata invece però anche lì c'è anche lì no 96 ascoltatori devo dire 90 sto a 1000 scroble vabbè ma quello è sfanculato j division per esempio raga vabbè ragazzi non ce la faccio dai non lo so nino d'angelo no bellissima suonatore jones bellissima non lo so è troppo difficile sta domanda per me ragazzi cioè per me è già difficile stabilire la mia canzone preferita onestamente allora dice che ero una domanda se posso cosa fai quando sei libera e puoi riposarti a casa oltre a serie hai anche hobby tipo disegnare cucinare leggere scrivere ascoltare la musica o ascolto la musica o guardo qualche film o serie o mi piace anche informarmi in generale quindi eventualmente approfondire delle cose che non so e non per forza sempre volta al lavoro ma anche alla crescita personale però a me piace anche tipo lavorare tipo fare queste stronzatelle no che si è volto al lavoro però mi rilassa anche contemporaneamente tipo fare tutto questo cioè non lo so unire l'utile al dilettevole però principalmente se proprio ti devo dire cosa faccio se non c'entra proprio niente il lavoro serie tv film film e musica su tutto peppino daniele vabbè cosa ne pensi di parenzo dai ragazzi l'alabai la odio perché la usava il mio capo come suoneria non ne posso più ma è più inflazionata dei chiur onestamente raga la più inflazionata dei chiur dai vado avanti che domanda particolare anneggia miseria odio le classifico non ce la faccio sbambsi pure io le cose mi piacciono per motivi diversi esatto è diverso non vuol dire che né peggiore né migliore esatto 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 sono d'accordo con te sbambsi assolutamente allora questa è una domanda molto particolare fatemi vedere la prossima magari madonna mia ragazzi ma quanto viagnete perché non sei più gentile verso gli utenti della chat questo fa scappare via le persone ma ragazzi io mi relaziono alle persone della chat così come meritano quel tipo di relazione se tu porti rispetto io porto rispetto puoi dire anche qualcosa di diverso da me dal mio pensiero dalla mia linea assolutamente si dal caso che comunque scappano tu parla per te colui che o con lei che ha scritto il messaggio perché a quanto pare ci stanno persone da anni qua quindi assolutamente no magari tu puoi parlare in base alla tua esperienza si dal caso che comunque io mi relaziono alle persone in base a come queste ultime si relazionano a me tipo per esempio si entra poi son 90 ed esce solo quando si fanno delle domande mirate piccate cose così io ovviamente da questa parte me ne accorgo e mi relaziono a quella persona a quell'utente nella maniera che merita perché quando poi porto altri tipi di contenuti e non fa capolino ma fa capolino solo quando conviene durante queste discussioni no queste domande un attimino un po' più particolari io mi adeguo al contesto cioè quello col cazzo grosso ciao salve buonasera io sono qui da pochissimo cioè ci stanno persone che stanno qua da 4 anni quasi quindi assolutamente io parlerei a livello personale soggettivo ci sono tante persone che sono subentrate durante quest'anno negli ultimi periodi nella community quindi non generalizzerei in questa maniera per far sembrare che ci siano persone che scappano via se poi tra l'altro magari non lo so per fare un richiamo eh tu founder da cosa fai voglia d'euro la più inflazionata non è close to me no per me la più inflazionata è l'allaby dei cure l'allaby la mettono ovunque ma pure è close to me eh cioè ogni riferimento è puramente casual ciao romiz buonasera tipo ad esempio mi è capitato infatti in chiusura dell'altra live mi è capitato che e non ne ho fatto mistero che per la seconda volta l'ennesima volta c'era Rasti in chat che non era d'accordo su qualcosa che stavo dicendo più che altro c'era rimasto male per averlo paragonato a delle persone che non capivano delle problematiche rispetto all'ambientale allo specismo voglio dire non l'ambientalismo lo specismo e tutto quanto così la seconda volta mi contattavi in privato dopo che nella stessa live io avevo detto ragazzi avete qualcosa da dirmi ma anche a livello proprio personale nella gestione dei contenuti di quello che dico ma a prescindere dal topic dal contesto eccetera eccetera scrivetemelo in chat evitate di scrivermelo in privato perché poi una volta che stacco da qua amerei adorerei veramente non stare dietro a tutte perché siete molti non ce la faccio a stare dietro quindi è anche un modo per chiarirsi per non lo so eventualmente a me le critiche cioè onestamente non è che non le accetto un conto è la critica un conto è il giudizio e l'hating e tutto quello che ne viene che è diverso però per favore non mi scrivete in privato per lamentarvi di cose che io dico in live però poi in privato perché cioè onestamente è asfissiante poi soprattutto se porto delle live che sono pesanti con delle tematiche pesanti va ancora di più a gravare sulla mia psiche sul mio aspetto emotivo io vorrei staccare quantomeno no? tanto io vado in live ogni cavolo di giorno c'è lo spazio per interagire cioè non mi sembra che io mi metta a fare la lettura dell'articolo vedere fare la reaction e non creo un contatto con voi io con voi mi metto a discutere spesso e volentieri cioè questa era la cosa no si è risentito ha detto non passerò più in cioè il murcherò ma non scriverò più in chat perché così con la cioè quando c'era da dare ragione a delle cose con cui per esempio mi trovavo d'accordo con Rust io lo dicevo tranquillamente se poi c'è qualcosa che non vi piace su cui non siete d'accordo anche non solo nel merito del contenuto nel merito del topic e dell'argomento ma anche rispetto alla conduzione che ho al mio modo di fare ditemelo tranquillamente è questo quello su cui io puntavo che io dicevo Arrasti per favore scrivimelo in chat la prossima volta non in privata è l'ennesima volta che lo fai io non ce l'ho il tempo di stare dietro a tutte le persone che magari avrebbero qualcosa da dirmi e non lo fanno tempestivamente mentre offro ogni giorno uno spazio per poter dibattere per poter parlare quindi se ci sono delle persone risentite nella maniera più assoluta ma non creerei assolutismi perché ci sono persone nuove ci sono persone che stanno qua da quattro anni parlerei soltanto a livello personale se questa persona che mi ha scritto l'NGL vuole dire perché mi hai fatto scappare è un conto poi capiamo perché ti ho fatto scappare andrebbe un attimino indagata questa cosa ma non massimizzare la tua specifica situazione a tutte le persone perché stai mancando di rispetto a chi supporta il canale sta qua ogni giorno e soprattutto ci sta da quattro anni da più di tre anni e mezzo secondo me eccessiva sensibilità io sono stata in disaccordo con la chat e con te ma certo abbiamo il batti beccato ma non mi sono mai sentita aggredita se si vuole discutere bisogna mettere in conto che non ti lecchino tutto assolutamente sì da una parte e dall'altra sia da parte di voi persone che fate parte dell'utenza sia da parte mia come streamer ma se ogni giorno ci sta il momento discussione che spesso monopolizza le stream dai su ma infatti infatti quindi parla per te persona che devo rispondere pure ad un'altra persona di questa cosa non mi devo non mi devo dimenticare che è importante bene altra cosa un popular opinion secondo me la ruota in live è noiosa e fa perdere un sacco di tempo inutilmente non capisco cosa ci sia di divertente anche qui è sempre un tuo parere personale perché in realtà che cosa è successo che per vedere la ruota così non solo oggi anche in passato cosa che mi hanno richiesto più volte le persone si divertono in base a quello che esce o in base a quello che faccio quindi parla per te tu che mi hai scritto questo messaggio tu ha un popular opinion tranquillamente nel momento in cui ci sta la ruota puoi semplicemente cliccare su un altro canale andare a vedere un altro tipo di contenuto e eventualmente ritornare per quanto mi riguarda invece per quanto mi riguarda e soprattutto te lo posso assicurare ci sono un botto di persone della community che mi hanno chiesto a gran voce il reinserimento della ruota e ci divertiamo quindi onestamente se ci sono dieci persone che si divertono e una che la trova noiosa mi dispiace sacrifico la noia di quella persona per potermi divertire insieme a tutte le altre nove manco vera a me piace e per questo dico parlate a livello soggettivo ci mancherebbe altro onestamente a me di Supremo buonasera pure tu pure tu pure tu mi piace Supremo mamma mia sotto le feste grazie Supremo 18 mesi insieme grazie mille poi che piacere rivederti ti vorrei chiedere come stai ma sei influenzato però per il resto tutto a posto tutto bene buone feste anche a te buone feste 38 da ieri notte dice gabri io sto morendo mi sa che Tato mi ha mandato tipo una nota su trez stava incubato proprio si è tutta appilata ho detto Tato un po' di raffreddore un popular opinion perché non è la maggioranza certo doppia d ci sta se da anni diverti un'intera community ci sarà un motivo si tratta poi di qualche minuto di ruota su ore di live esattamente ma poi mi serve è un espediente su diversi livelli qui ci vuole l'esorcista una grandissima benedizione l'anno prossimo Natale a Lourdes Supremo come la vedi buona volta l'ho toccata quella cosa e l'ho smontata tipo mi assengo ma che ha ruota euro il raffreddore è stato i miei primi regali di compleanno e certo ci vuole l'aereosol e raga ma mi sa che lo devo fare pure io l'aereosol comunque perché sta tosse non mi passa allora buonasera Anna mi piacerebbe sapere oddio mi piacerebbe sapere che tipa di amica sei allora nella mia vita ho avuto diverse delusioni in merito all'amicizia ma proprio tantissime forse a volte ci sono rimasta più male per la perdita di un'amicizia che per la rottura di un rapporto di una relazione sono sincera perché per me non sono la stessa cosa cioè nel senso i piani i livelli sono diversi e quindi mi toccano a livello emotivo a livello di sensibilità in modo diverso quindi però ecco dopo anni sono giunta alla conclusione che poche amicizie ben scelte ben scelte che magari si contano manco su una mano perché ne sono poche ma in quel caso instauro un rapporto come posso dire come lo posso definire veramente molto stretto tanto stretto do tutto tutto quello che è nelle mie possibilità perché ci credo profondamente e soprattutto ci credo profondamente c'è un termine in realtà vabbè comunque non mi viene in mente sto termine però c'è un termine che in realtà racchiuderebbe bene quello che per me è l'amicizia vabbè comunque io credo molto nell'amicizia però un conto è l'amicizia un altro conto sono le conoscenze in generale proprio un altro conto sono i rapporti formali sono molto a compartimenti stagni su questo punto di vista io ma con le amicizie tento di dare tutto spero che questa cosa passi alle persone che mi stanno accanto a cui voglio bene dell'anima pure perché comunque nel mio percorso tante amicizie mi hanno aiutata nei momenti di difficoltà altrettanto io spero di poter fare lo stesso in maniera disinteressata ecco questo era il termine che non mi veniva capriolo salve buonasera ho detto che mi è arrivato un pensierino da parte tua che lo tengo là ancora devo vedere sono curiosa però mi piace pure la sorpresa il 24 scarto il regalo quindi bisogna chiederlo più agli amici che a te questo esatto sbabsi infatti mi spunnei di benacol una volta che mia mamma mi ha dato l'aspirina si è lenita l'irritazione alla gora forse manco ci credo perché mi diceva sei raffreddatissimo sto superlativo per la mia situazione mi dava fastidio ciao Gino buonasera dovresti chiederlo agli amici non ad Anna ecco ecco esatto questa forse è più una domanda che va fatta agli amici che mi stanno attorno veramente sono amici proprio stretti che do un valore enorme all'amicizia si contano sul veramente su una mano su una mano ancora prenderai mai in considerazione di chiarire con Abicocca credo che su questo punto ci siamo già soffermati abbastanza cosa è successo da tre Abicocca ci siamo già soffermati domanda gettonatissima vedi un futuro indefinito o una relazione con quel sarchiapone di grande cappellone violaceo maronna mia ve lo ricordate grande cappellone violaceo ve lo ricordate amici amici poi non ti regalano una samba in realtà un overmark anzi non è proprio vero quello che stai dicendo una sanzata le mie amiche supportano molto il mio progetto poi quando ovviamente c'è l'occasione io di conseguenza proprio perché me ne rendo conto ci sono diversi modi di ricambiare tipo per esempio l'ingresso ad una serata magari cocktail qualcosa cioè su questo ci sappiamo gestire bene però sono cose che non si dicono raga cioè che grandi ricordi ragazzi come dimenticare come se lo vuoi comunque se lo vuoi sapere Anna una merda te la sconsiglio evro mannaggia mannaggia evro motibacchetto ok stronzetto eh o l'anno scorso stavamo insieme evro ci sparavamo dalla mattina alla sera last christmas è uscito tipo tra i ricordi bellissimo bellissimo periodo l'anno scorso molto particolare tiene una cosa pavata esatto ciao ging buonasera allora fatemi concludere questi qua ngl la tua canzone preferita dell'album jerry christmas ma che cacchio è supremo 5 abbonamenti ma che grande supremo grazie mille grazie mille davvero grazie 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 amo noi coinquillini mi manca pure a me evro te lo giuro è stato bellissimo grazie supremo tesoro grazie mille delle 5 sub regalate grazie mille grazie fate i cuori per supremo regalato 5 sub alla community su via grande supporter grazie supremo grazie davvero per le 5 sub grazie mille per il supporto immenso grazie 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 fate i cuori a supremo dai che se li merita grazie mille supremo grazie ancora con i cuoricini tra l'altro sopra bellissimo grazie mille ringrazio ti ringrazio supremo grazie non basteranno mai grazie che meriti veramente allora scarti lo fist o scatuz è una scelta dura lo so non capisco non so no messo malex non è che non c'è modo di sapere sei tu che non sei aggiornato perché voglia che sei saputo e sei stata anni per cui mi dispiace sei tu che non stai sul pezzo messo malex questa è una domanda greve quanti libri hai letto quest'anno l'impressione che tu non legga tanto visto che parli di libri letti parli del passato sì è vero a livello di libri quest'anno ne ho letti soltanto tre quello della murgia due libri no più di tre due libri che riguardano l'università e il libro di un mio amico che è uno scrittore che ho letto più c'è sta pure un altro libro che ho letto adesso sto cercando di capire di ricordarmi qual è che non voglio non mi voglio confondere con l'anno scorso sì comunque molto poco purtroppo non ho molto tempo per leggere i libri però d'altro canto leggo altre cose cioè libri a livello fisico materiale proprio così no però leggo altre cose tipo per esempio papers abstract che riguardano comunque principalmente degli approfondimenti su delle tematiche che porto anche in live aggiornamenti vari quello sì quello di crepaldi l'anno scorso raga quello di crepaldi è l'anno scorso no 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 l'anno scorso quello sui ginsel ciao iara buonasera e niente no non ho letto molto devo essere sincera mi dispiace poi tra l'altro perché comunque la lettura credo che sia qualcosa di estremamente formativo poi ovviamente dipende da che cosa deve leggere parliamoci chiaro e quindi non c'è qualche altra cosa comunque che ho letto quest'anno però sulla lettura cioè io ho bisogno di essere completamente scevra da pensieri perché mi distraggo molto facilmente nella lettura di un libro non mi ho perso un po' quella cosa di lasciarmi trasportare dal flusso del racconto di ciò che sta scritto sul libro quindi non lo so non sto nel mood per potermi approcciare i libri ecco per esempio quella di Giulia Salemi per me grazie e calla euro certo se ti vai a leggere il libro di Giulia Delellis molto probabile come si chiama Giulia Delellis che aveva scritto un libro molto probabilmente ci sarà poco di formativo però magari per curiosità io spingo sempre malinconia di classe secondo me un libro che dovrebbero leggere tante persone che viene dalla classe lavoratrice soprattutto e me lo segno me lo segno me lo segno me lo segno ah avevo riletto il libro di Adrian Borland dei sound the sound come gruppo però pure quello che è comunque bello massiccio è bello grosso e niente non mi vengono in mente altri libri sono sincera vabbè comunque quello con le corna euro il libro della nonna di Giulia lo consiglieresti chi è la nonna di Giulia Jing non so io ho letto il libro di Britney Spears vale certo che vale ovvio euro come no poi guarda ragazzi la domanda delle domande è vero strano sei innamorata in questo periodo e poi ho finito gli NGL in realtà no in realtà no perché qualcuno l'avevo letto prima devo dire le cose come stanno mi è arrivato prima della live certo di le cose come stanno prego non so chi possa essere questa persona ma di vai 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 di le cose come stanno tranquillamente solo Twitch verità qua una persona molto importante per me pensa che sei adorabile questo è un altro messaggio che mi è arrivato prima della live ti ringrazio in realtà ci stanno degli NGL dei mesi scorsi del mese scorsi sono qui per te ti ringrazio che carucci sti messaggi oppure messaggi del tipo è tutto ok questi mi fanno volare letteralmente volare ho avuto una cotta per te e non ci hai mai fatto caso cioè sei una persona pavida sei una persona pavida l'ho pensato anche quando l'ho letto il mese scorso sto messaggio ho avuto una cotta per te e non ci hai mai fatto caso se già non ci ho mai fatto caso no come posso risalire alla persona che ha avuto una cotta per me mi sarebbe piaciuto almeno saperlo magari non lo so poteva essere ricambiato poteva non essere ricambiato però ehi comunque siamo persone adulte magari ci ridiamo su non lo so interagiamo cioè attaccati e calla euro ma questi mi sembrano i messaggi fake di ngl no ho avuto una cotta per te non è il messaggio li riconosco i messaggi fake di ngl altri messaggi che non posso leggere e che vengono menzionate altre persone del mondo di twitch siamo ai livelli bigliettini delle medie al contempo tenero ipatetico oddio oddio non ha mai inviato messaggi vincenzo che ti devo dire però onestamente queste cose ma un botto è di messaggi così un botto di messaggi così ho una cotta per te da anni e non ci hai ancora fatto caso lol ragazzi come potrei mai saperlo ai miei genitori piaci molto c'è ma spusa voglio davvero che facciamo amicizia anonimo e come faccio a fare l'amicizia se io capi cioè qual è il tuo ruminante preferito occhi di gatto buonasera dovresti scrivermi come faccio questi mi fanno volare come faccio a sapere cioè come faccio a scriverti se è anonimo come faccio tu me lo devi dire tu me lo devi spiegare genio dovresti scrivermi beh è anonimo come faccio cioè io non lo so mi fanno bellissimo 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 sia adorabile lol carino finalmente ho del tempo libero usciamo con chi con l'uomo invisibile cioè non lo so Anna scrivigli subito ti pensano magica Anna ragazzi non lo so finalmente ho del tempo libero usciamo perché non perché non cacciate le non dico le però metteteci la faccia almeno non lo so non lo so fate qualcosa supremo che dice una curiosità valgono i libri di stefano king li vedo un po' come scritti ma certo ovvio supremo come no certo certo ti piace stefano king Anna usciamo insieme Gabriella ma noi ci vediamo il 31 ma dai unvedi usciamo in anonimo giustamente come faccio io purtroppo devo andare buona live buona serata tesoro grazie per essere stata qua io tra mezz'oretta stacco vabbè non lo so non lo so non lo so non saprei qui sono finiti gli NGL ragazzi comunque l'ultima domanda era sei innamorata in questo periodo allora allora nell'ultima mezz'ora se voi non avete altre domande da fare in chat se non le palle quantomeno la faccia mi piace me la rivenderò esatto esatto sbabsi puoi rivenderla tranquillamente nell'ultima mezz'ora ragazzi mettiamo ci mettiamo forse a guardare qualcosina a recuperare probabilmente un contenuto che ieri non sono riuscita a portare fingi di morta ah no ma dopo aver visto così tanti contenuti di persone come tweener secondo te è possibile tracciare diverse correnti di pensiero perché qualche sfumatura ogni tanto la vedo certo certo antitled cioè per esempio io non butto tutti nel calderone allora per esempio per quanto riguarda il format del commentary su youtube dove appunto fanno parte tweener il doggo non è un serpente nate sbortus tutte persone pure il mago intrusivo ce lo mettiamo dentro comunque tra di loro sebbene comunque facciano parte della scia del commentary tra di loro io le intravedo delle sfumature proprio perché secondo me sono rintracciabili a seconda della persona che argomenta su quel determinato tipo di contenuto sta di fatto che comunque si può tracciare a linee a grandi linee invece un determinato mood di approccio rispetto a certi tipi di contenuti che è molto simile tra di loro però poi nel merito se si va ad indagare nel merito delle sfumature di pensiero divergenti anche tra di loro stessi lo si può ritrovare per esempio per me tweener è estremamente tossico sbortus un po' si accoda a tweener però ogni tanto comunque te la fa una riflessione differente credo che sia molto più capace di tweener stesso per quanto mi riguarda ha una capacità analitica e meno tendente alla disinformazione voluta rispetto a tweener il mago intrusivo ragazzi ma mi fa ridere il mago intrusivo sparaboiate cose sbagli i termini concetti però mi fa ridere perché è proprio completamente pazzo pazzo folle lo prendo anche molto simpaticamente il doggo non è un serpente lo apprezzo un po' di più rispetto a questi ultimi così come chi cazzo è tweener ma io non lo sai vieni il doggo non è un serpente lo apprezzo un po' di più rispetto a tweener a tweener ma manco a sbortus a tweener e invece quelli tra il commentari tra tutte le persone che fanno commentari su youtube quello che estimo di più è Nate perché vedo che non c'è proprio l'esigenza costante di trattare compulsivamente queste tematiche anche se comunque non è materia su cui tutte queste persone non sono informate opportunamente non è che deve fare necessariamente per forza di cose per stare in hype il video contro maria sofia le femministe ce lo trovo molto più introspettivo molto più calzante nel modo di comunicare quindi questo è quello che dice Giulia Cicchenettin si fragole è quello che la chiama così si 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 vabbè comunque raga cioè gli NGL sono finiti ah vabbè sono finiti si sono finiti sono finiti l'ultima domanda era sei innamorata in questo periodo no non sono innamorata in questo periodo però sto frequentando una persona questo lo posso ammettere si sto frequentando una persona ma adesso innamorata è greve cioè io derivo comunque da una relazione che è stata comunque nel mio piccolo importante per me con conseguente convivenza tutti i traumi che mi porto dietro i sogni smorzati le disillusioni rispetto alle relazioni non ho fiducia proprio nel genere umano in generale e quindi questa cosa comunque dentro di me mi blocca tantissimo è passato più di un anno e mezzo da quando comunque sono single più di un anno e mezzo e io fino a un mese e mezzo fa non pensavo minimamente di provare determina provare di nuovo determinate sensazioni ed ero completamente sfiduciata proprio a prescindere da tutto su possibili rapporti barra relazioni che potevo avere con una persona quindi relazioni a due così però sta di fatto che in bocca al lupo ienegelle sono andate in pace esatto no lei è una ragazza con il cuore di ghiaccio algida impenetrabile e non crede nell'amore nata con i lupi cresciuta guerriera mannaggia miseria ebro sì 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 sono in realtà che ha partecipato al talk dal vivo sa perché ho presentato questa persona che ormai frequento da più di un mese e che già conoscevo perché avevo conosciuto sei anni fa tra l'altro poi quando sarà il tempo ve ne parlerò eventualmente perché è pure simpatica come cosa però onestamente onestamente io non voglio più parlare delle mie relazioni rapporti frequentazioni online perché c'è anche questo ha influito molto per quanto riguardava la mia relazione precedente due persone esposte due persone che comunque stavano sotto i riflettori sotto lo sguardo vigile del pubblico è una cosa che comunque io poi col tempo ho capito che ho in qualche modo mi ha mi ha fatto vivere sta relazione anche con delle ansie in più rispetto ad un rapporto un po' più intimo privato normale poi la gente non si fa i cazzi suoi romins per esempio l'ha conosciuto che bello capire di poter ancora credere nell'amore non ci credevo ragazza non ci credevo non ci credevo non ci avrei scommesso ma manco 20 centesimi io comunque mi confondo con quello che dici online e quello che mi dici in privato basta che fai i cazzi i tuoi euro ed è tutto a posto forse scappa a Roma per cazzo e vieni pure tu dai euro sì dai mi fa piacere top dai che andiamo a fare un po' di faggiani in giro noi ci dobbiamo organizzare viene pure Gabriella siamo io tu Ginny Gabriella e niente non ci credevo ragazzi veramente cioè ripeto io fino ad un mese e mezzo fa ero completa non ci pensavo proprio ma nemmeno ci volevo ci mettevo aspettative cose non uscivo con nessuna persona mi ero completamente trincerata in me stessa il percorso il lavoro la fase di ripresa non credevo più nell'innamoramento figuriamoci nell'amore forse sono nell'amore ancora non ci credo del tutto comunque e invece e invece è andata così è andata è andata così quindi innamorata è un parolone cioè io adesso veramente do un peso enorme a queste parole parolone esagerato dico mai nulla in chat comunque vi faccio sapere devo trovare una camera che non mi salassi io tengo già Gabriella che metterò non lo so come sulla sceslon così se vuoi dormire per terra mettiamo il piumone per terra adesso interessata sì invaghita invaghita proprio da 15enne ti dico ti so sincera troppo innamorata della vita ah sei anche confidanzato allora posso non so come venirti incontro sono molto felice di quello che sto vivendo al di fuori degli schermi ultimamente sono so contenta cioè so contenta perché non pensavo che potesse capitarmi di nuovo una cosa una cosa del genere e niente una persona che mi vuole bene che si comporta bene una persona che cioè io poi sono sempre ci vado sempre molto cauta eh io prima di poter riuscire uscire di nuovo domanda qui rispondere sinceramente ma quando dici le cose le dici piangendo ma mica mi chiamo dillo senza piangere dillo senza piangere scusami un bravo guaglione un bravo guaglione sono contenta per te innamorata sì ma solo di Gesù eh eh niente eh niente vediamo vediamo come prosegue io tengo ancora le macerie dentro che comunque non è semplice ci ho messo un anno e mezzo prima di poter uscire di nuovo cioè con una persona manco seriamente perché proprio in generale un anno e mezzo che io onestamente non uscivo con nessuno si vede si sente Gesù è qui presente andiamo a vedere dai in realtà mancano dieci minuti eh non è che possiamo vedere molto onestamente che io devo staccare le 21 fai bene ad andare cauta tanto se deve nascere qualcosa nasce pure esatto esatto Daniele è così che proprio la sto affrontando la cosa pure perché mi piglia l'ansia mi piglia l'ansia io comunque sono figlia dei miei traumi passati però comunque anche vero che molto spesso quest'ansia dovuta ai traumi passati mi ha tagliato le gambe non mi ha permesso di vivermi delle opportunità tra virgolette perché mi autosabotavo dicevo no non è possibile non posso non posso espormi con i sentimenti per la paura di essere ferita questo è Anna Manna buon prenatale sono in questo momento in compagnia del caro capo bastone e ti saluta saluta il caro capo bastone speriamo che anche anche questo non mi palpi io violato ma io ma ho saputo cioè ve l'ho detta già no ve l'ho raccontata già il fatto no fai benissimo a non rendere pubblico il tuo privato esatto questa è una cosa a cui tengo tantissimo tanto 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 le gambe pelose di ma sapete la cosa che io uscivo in una persona più di un anno e mezzo un anno e mezzo fa e questa si era messa a palpare svarate volte ma è sempre bello eh si era messa quella che l'altra persona cioè è stata proprio diciamo che dopo la fine della mia ultima relazione io avevo frequentato per scarso forse un mese scarso un mese un'altra persona che poi tra l'altro c'è nel senso eh mi sono sentita così tanto una pressione addosso da parte di questa persona che mi ha traumatizzata ancora di più ecco perché poi per un anno e mezzo non mi interessava proprio uscire con nessuno cioè non mi interessava proprio non mi fottevo cioè io tenevo altre cose a cui pensare e questa persona con cui ero uscire c'eravamo evro no questa persona evro in mezzo e io e sta persona mi sono sentita sposata sta persona tutta che accarrezzava la coscia che accarrezzava la gamba una certa io non me ne ero resa conto mi giro vedo evro che dice eh però scusami stai accarezzando da tre ore la mia gamba non è quella di Anna quello si pensava che stava accarezzando la gamba mi invece stava accarezzando la gamba evro la folia la follia la follia non ce la faccio perché il trauma non si ripeta il tassista morto perché stavamo in taxi non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio è stato bellissimo comunque evro mi ha regalato un ricordo che mi porterò dentro dietro nella mia vita bellissimo guarda evro bellissimo bellissimo vabbè ragazzi dai mancano dieci minuti che dobbiamo fare vediamo qualcosa non lo so in questi dieci minuti no Romniz guarda Romniz tu giuro cioè povero evro eh senti scusami comunque lo stai facendo da tre ore non è che stai accarezzando la gamba di Anna stai accarezzando la mia la gamba siamo non me lo scorderò mai anche io l'amicizia si basa anche su stronzate eh sì fabbiosa dai fabbioso dobbiamo vedere per forza un story impact un story impact però c'è per esempio no c'è questo video di ciao internet Matteo Flora dieci ore fa c'è della pedofilia nei dati che addestrano le AI era interessante però vabbè sì dai mettiamoci story impact story impact basta no 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 story impact story impact interessante già l'ho salvato in realtà lo portiamo domani già lo tenevo salvato era 13 minuti perfetto però uno story impact invece lo accetto dai fragola buon lavoro buon lavoro fragola figurati grazie a te allora scegliamo questo story impact o kiko la rana kiko esperimenta no story impact caccia il figlio perché non rispetta le sue regole caccia suo figlio perché non rispetta le sue regole ragazzo soffre di attacchi di panico e il padre lo sminuisce perfetto arrogante e cattiva non accetta la ragazza del fratello non accetta la fidanzata del fratello cambierà il suo modo di vedere le cose maronna mi sempre giusto voi riuscite non lo so Antonio guarda non ho provato modella con la vitiligine viene cacciata arrogante pensa che i dolori del ciclo siano inventati ragazza giudicata per il suo aspetto fisico cioè hanno messo questa new entry questa ragazza con i capelli corti nel parterre di story impact a stanno utilizzando come se fosse capito come se fosse la novità la ragazza viene giudicata per il suo aspetto fisico poi che fa l'aggressiva perché giustamente se una ragazza con i capelli corti automaticamente si è aggressiva cioè capito non lo so vicino chi è Walter Nudo no no vicino di casa sospettato di maltrattare la ragazza dai ragazzi scegliamone uno scegliamone uno padre depresso ignorato no questo non me va ragazzo germofobico viene deriso per il suo disturbo quale volete il mio sogno ma no Evro ma perché non ti non partecipi scusami arrogante versus ciclo quindi tra questo arrogante e cattiva non accetta la ragazza del fratello oppure arrogante pensa che i dolori del ciclo siano inventati ma sì ma prova a vedere pensa che i dolori del ciclo siano finti quale volete vedere questo o questo dai arrogante e cattiva oppure dolori del ciclo arrogante ciclo questo qua quello del ciclo quella del ciclo dai vediamo quella del ciclo la migliore depilazione perché avete scelto quando non ci pensi più scoppi perché pure voi ci mettete la vostra la luce pulsata che ti dà fino a un anno di pelle liscia e i primi risultati li vedi dopo sole tre settimane quando vuoi dove vuoi luce pulsata voi avete mai fatto la luce pulsata soddisfatti o rimborsati ecco forza concludiamo così ma quanto sei esagerata possibile che ogni volta per te si dovrebbe fermare il mondo parli così sì perché tu non sai cosa proviamo guarda che se avessi dolori mestruali che io ti faresti ricoverare ogni mese la verità è che ti piace fare la vittima è questo il fatto comunque ti ricordo che ho speso 700 euro per questo weekend e tutte le attività annesse è impensabile che ci rinuncio chiaro se tu stai male puoi anche tornare a casa io non mi faccio condizionare da te madonna mia santa già te sta mannata a fangulo senza che fai tutte queste esagerazioni ma guarda che non è un'esagerazione e poi a me la pillola non mi fa niente il dolore è troppo forte ecco allora dammi retta se tu vieni stiamo all'aria aperta fai cose ti distrai e alla fine non senti più nulla ma guarda la pillola non fa niente non lo so non riesco nemmeno a pensare in questo momento senti l'appuntamento è tra dieci minuti dimmi che vuoi fare venire o no chi è? oh leprecano buonasera metà anno lepre grazie mille col prime quindi gratuitamente buonasera tesoro buonasera grazie mille per l'abbonamento grazie mille per il sostegno daglie come stai true story impact è story impact ragazzi non conoscete story impact è che cioè capi 700 euro in due viaggio alloggio attività e da poeracci vai tu in quel bungalow trovato su booking a due lire becca all'euro che diva giustamente va bene oh ci voleva tanto dai sì però cammina maronna mia io lo so che sarà una giornata lunghissima muoviti dai buon lavoro tutto bene lepre tutto bene signorina è tutto ok? che succede? sì 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 che odio è il primo giorno di ciclo e ho qualche giramento ma non è che ce l'ha lui il ciclo di testa un po' di dolore perché è venuta questo trekking è abbastanza impegnativo di per sé figuriamoci con i dolori mestruali sì però Flavia ci teneva molto e e non volevo che rinunciasse per colpa mia e allora non fare il teatrino adesso stai qui divertiti teatrino ma lei ha idea di che cosa siano i dolori mestruali? li ha per caso mai provati? no non li ho mai provati però ho sentito dire che parecchie donne li hanno e ogni volta non è che si fa una tragedia ho sentito dire che parecchie donne li hanno i dolori da cipa ha sentito dire lì c'è comunque insomma mi lasci dire che dipende da donna a donna anche se non tutti le hanno non vuol dire che chi la stia esagerando grazie della lezione dai lasciamo stare non vorrei rallentare il gruppo appunto non ci rallentare su notto il donna è sicura è sicura lei pensa a fare la vita andiamo madonna mia ragazzi ma odiosissimo come l'hanno caratterizzato sto personaggio nooo signorina 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 che è successo? guardi che cosa è combinato sì eh perché ha messo pure lui la pressione addosso non solo da no ciclo messo Grazie.